Penso che possiamo cominciare. Ringrazio tutti i partecipanti e i relatori che hanno raccolto l'invito nel presentare una propria relazione nel presente incontro. Si tratta di un secondo seminario che è collocato all'interno di un ciclo più ampio e che a sua volta si colloca all'interno di un assegno di ricerca che è stato finanziato in parte dall'associazione Salvia Morosso e supportato dall'università di Criti. Il seminario ha la finalità di focalizzare e di trattare alcuni aspetti specifici. Nel primo seminario abbiamo osservato come le pubbliche amministrazioni si sono apprezzate da un punto di vista organizzativo. Regenio, scusa se ti interrompo. Prego. C'è qualcuno che ha il microfono accesso e disturba molto. Esatto, cercavo di avvertire su questo. Ok, forse è risolto? No, no. Ci può essere che magari la Biblos può operare direttamente in questi casi. Sto cercando di capire da dove viene il rumore, forse da Civitarese. Però non... Ok, ok. Parlavo adesso perché è vero. Sto cercando di capire da dove veniva il rumore, ma non sento più il rumore di fondo, quindi forse è risolto da solo. Ok, quindi un primo seminario che abbiamo svolto circa un mese fa sui profili organizzativi, ossia su come la pubblica amministrazione si è organizzata per gestire le politiche di conservazione dei grandi mammiferi. Oggi parleremo delle politiche per la gestione degli orsi confidenti o problematici. Il ciclo poi proseguirà con ulteriori tre incontri. Uno che ha a che vedere con la valutazione della funzionalità delle aree protette all'interno delle politiche di conservazione. un quarto incontro, un quarto seminario nel quale si cercherà di mettere in luce quegli istituti di coordinamento che devono essere sviluppati per la gestione di politiche ambientali. Quindi dove sono differenti pubbliche amministrazioni e dove incidono le aree protette. e quali sono i meccanismi previsti per permettere un raccordo fra tutti i soggetti pubblici coinvolti nel governo dell'interesse pubblico ambientale. Vi sarà infine un ultimo incontro che sarà dedicato specificamente al BATOM, il piano di azione per la conservazione e la tutela dell'orso marsicano. L'incontro di oggi è particolarmente interessante, anche alla luce di una pronuncia recente del Consiglio di Stato con il quale si è confermata un'illegittimità rilevata in primo grado per le linee guida adottate dalla provincia autonoma di Trento. Linee guida che erano allegate ad una delibera della giunta provinciale dello scorso anno. Quindi è in questo contesto che si pone il presente seminario, che sarà sicuramente interessante anche alla luce delle diverse esperienze istituzionali che vengono ad essere rappresentate. Da un lato il Parco Nazionale dell'Abruzzo, col dottor Samarone, che ringrazio. Dall'altro lato Esperienza Trentina, il Parco Naturale dell'Alpamello e Brenta, presso il quale svolge funzioni, presso il quale è funzionario del dottor Andrea Mostoni. Ringrazio infine il professor Paolo Ciucci, che da anni si occupa di politiche di tutela dei grandi mammiferi, soprattutto per quel che riguarda la conservazione dell'orso maticano. Non so se Stefano voleva aggiungere qualcosa, in caso contrario direi di procedere. Avviso a tutti i partecipanti che l'incontro è in corso di registrazione, questo perché tutte le informazioni che verranno ad essere raccolte sono utili per lo svolgimento dell'attività di ricerca e, in secondo luogo, sicuramente rappresentano momenti di approfondimento che è utile condividere, mantenendo traccia di quanto si dirà. Prego. Perfetto, saluto soltanto gli ospiti, mi aggiungo ai tuoi ringraziamenti, lascio senz'altro loro la parola perché quello che hai detto perfettamente inquadra il senso di questi seminari, che era quello che ci interessava comunicare anche a chi magari non ha partecipato la scorsa volta, mi sembra che ci sia una partecipazione abbastanza considerevole, visto anche l'orario e la modalità, quindi senz'altro sarà una giornata ricca di spunti. Poi magari invito fin d'ora a intervenire successivamente con brevi domande, brevi commenti, insomma cerchiamo di arricchire con la partecipazione di chi ci segue, gli spunti che ci servono per la ricerca, insomma è fatto bene a sottolineare che il filo conduttore di tutto ciò è una ricerca che a fine deve portarci a delle considerazioni in carattere sia teorico sul modello, ma anche a delle proposte possibilmente operative per migliorare il modello, che è il modello del pato, sostanzialmente. Grazie ancora e lascio la parola a te, Gian. Buongiorno a tutti, ringrazio anche io gli organizzatori, è un'operazione intelligente di confronto, di crescita culturale e proprio per questo... C'è un ritorno che non capisco... Provi a parlare adesso? Va meglio? Va meglio? Ok. Dicevo, grazie dell'invito e complimenti all'Università di Chieti, Salviamo l'Orso che ha promosso questo ciclo di seminari, utile per provare a capire qualcosa di più, per condividere informazioni, per condividere esperienze e perché ovviamente dal confronto intelligente, costruttivo, critico si cresce sempre, avendo ovviamente la prospettiva di sapere che poi, soprattutto nel campo scientifico, le soluzioni non sono mai definitive, perché ogni volta magari si può andare oltre e si possono trovare nuove soluzioni. Io condivido lo schermo con la presentazione... Oddio, mi è sparita la presentazione, non lo so, eccolo qua, che fine ha fatto... Ecco, allora... Funziona? Sì. Ok, d'accordo. Appunto, l'esperienza del Parco Nazionale d'Abruzzo nella gestione degli orsi confidenti e o problematici. Allora, un inquadramento storico di questo fenomeno all'interno del Parco l'abbiamo costruito in questi termini, ovviamente ragionando in epoca recente, perché in epoca storica, andando a spulciare l'archivio storico del Parco, le relazioni dei Guardia Parco, probabilmente di episodi non codificabili come quelli che stiamo vivendo in questi anni, insomma, di animali che si avvicinavano ai paesi, che frequentavano i centri abitati, piuttosto che i piccoli allevamenti ce ne stavano tanti, però io lo vado dicendo, lo vado condividendo con sempre più persone, probabilmente è un fenomeno frutto quello degli orsi confidenti, almeno da noi in Abruzzo, frutto anche della cultura della conservazione, dell'azione di sensibilizzazione, perché fino a qualche decennio fa gli orsi non facevano a tempo di diventare confidenti nella misura in cui due, tre, quattro, dieci giorni, probabilmente, poi se continuavano certi atteggiamenti, venivano ammazzati e fatti sparire. Dicevo, dal 94, nuove orsi problematici considerati tali nella storia del parco, negli anni 90 c'era Yoga, negli anni 2000 Serena e Gemma, nel periodo 2010-2015 Gemma e Peppina, e poi dal 2016 al 2021 ci sono questi, diciamo, sette soggetti in giallo, gli unici due maschi che sono Mario e l'ultimo che è Carrito. Il perché di questi, diciamo, degli orsi problematici, confidenti, non tutti gli animali... Sì, 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 ma credo che noi non vediamo... Tu stai, fai riferimento a delle slide, ma noi vediamo sempre la prima. Ah, accidenti. Non so perché, forse devi far partire... Aspetta, io... Non è in modalità presentazione, credo. È in modalità presentazione, sì. Questa è presentazione. Perfetto, sì. Ci siete ora? Sì, però Luciano credo che non sia in modalità presentazione, perché vediamo anche le slide sulla sinistra, diciamo, le piccole icone. Eh, io mando questa, va, guarda, io lavoro su questa, per cui... Io ho messo in modalità presentazione, non so se... Forse hai condiviso lo schermo sbagliato. Possiamo provare a riavviare la condivisione dello schermo. Allora, interrompi condivisione, chiedo scusa, ragazzi, il mio tecnologismo forse non è... No, vabbè, sono imprevisti nel giorno. Allora, chiudi pannello condivisione, riapri pannello condivisione, condivisione dello schermo... Scegli lo schermo in cui c'hai già la presentazione attivata. Eh, ho aperto una finestra, per cui questa era... Aspetta, vediamo qua, sì. Questo qua, te, condividi, e questo e questo qua, no. Ok, può anche condividere tutto lo schermo e aprire a schermo intero la presentazione. Quindi così, condividi. Sì, ora andiamo sulla presentazione. Ci siete? Sì, perfetto. Ora... Ci avete davanti una slide, nove orsi problematici dal 94. Sì, direttore, ce l'abbiamo davanti. Proseguo. Ok, grazie. Scusate, ma non sono così tecnologico. Vabbè, perdonatemi. Vabbè, allora, in realtà, le prime due slide erano questa di presentazione e questa era la prima parte, chi e quando, quindi l'inquadramento storico. Le cose che vi ho raccontato sostanzialmente, Yoga negli anni 90, Gem e Serena negli anni 2000, Gem e Peppina nel periodo 2010-2015, e dal 2016 questi sette orsi che in mezzo ai quali ci stanno due orsi maschi. Il dato oggettivo è che non tutti gli orsi manifestano, ovviamente, lo stesso tipo, la stessa problematicità, la stessa confidenza. Alcuni risultano fortemente condizionati dal cibo di natura antropica, altri sono anche dannosi e quindi, come dire, la complessità, ovviamente, di questi animali cambia e però l'altro elemento importante è che non sempre c'è una, come dire, i fenomeni che andiamo via via classificando sono cronici, cioè restano così, cominciano e vanno avanti negli anni. L'abbiamo osservato con tanti animali, gli ultimi esempi possono essere Giacomina piuttosto che Amarena, la stessa Gemma, che è vero che si è fatta vecchia, però ha cambiato negli anni il suo comportamento. Le cause, ovviamente, le ragioni, i motivi per cui si verificano questi fenomeni, ovviamente gli animali possono essere condizionati dal cibo. È una quota relativamente piccola o grande a seconda dell'incidenza e dei periodi, ma insomma al parco abbiamo calcolato dal 2 al 14% della popolazione. Spesso si tratta di animali giovani e sempre più spesso di femmine, il rapporto dei 9 animali presi in considerazione e considerati tali è che sono due maschi e gli altri sono tutte femmine e ovviamente tutto questo è fortemente condizionato da una grande variabilità stagionale della disponibilità alimentare e da ovviamente una grande varietà annuale. Questo passaggio successivo abbiamo provato a raccontare che cosa è stato fatto nei vari periodi, ovvero le prime esperienze riguardano yoga. Yoga aprì lo scenario sugli orsi confidenti all'interno del parco d'Abruzzo negli anni 90, si cominciò col condizionamento negativo, con l'alimentazione supplementare e cioè si provò a dargli da mangiare in zone di montagna pensando che uno dei problemi fosse quello, si fece addirittura la traslocazione che fallì purtroppo. Diciamo che all'epoca c'era anche una scarsa diffusione delle azioni di prevenzione e quindi yoga fu sostanzialmente condannata a essere chiusa nel recinto, all'epoca era Villa Vallelunga che diversamente non poteva essere gestita. Con Gemma e con Serena, addirittura con Serena si sperimentò il collare elettrico e comunque si fece condizionamento negativo, poi passando alla fase successiva, cioè quella dei primi anni dal 2010 al 2015, cioè su Gemma e su Peppina, cominciarono le fasi di azione del protocollo per la gestione orsi confidenti, questi sono gli anni del progetto LifeArcdos in cui il parco, ma tutta l'organizzazione, la struttura del PADOM, il corpo forestale dello Stato, l'università, la regione, ma ci confrontammo con i trentini, l'Arcdos è stata una grandissima esperienza e ha offerto tanti spunti di lavoro e tante anche indicazioni utili, proprio perché c'era stato un grande confronto, ma insomma diciamo che con Arcdos si cominciarono a codificare un po' meglio tutte le azioni e tant'è che si partiva dalla prevenzione, la comunicazione e poi il condizionamento negativo. E poi quella che abbiamo definito come dire l'antropocene, ovvero l'epoca recente dove mettendo assieme e facendo esperienze di tutto quello che era successo, ovviamente è arrivata l'ennesima variabile a questi problemi, e quello cioè la gestione di turisti, curiosi, fotografi, gente che prende la presenza di un orso in un paese come un momento di svago, di attenzione e via dicendo. Non sempre il condizionamento negativo è stato ed è attuabile per una serie di ragioni, perché ovviamente gli orsi possono stare in mezzo al paese e quindi non sai dove scappano, perché non sempre il livello di prevenzione è adeguato, perché non riesce a governare le persone che stanno attorno, perché come nel caso di Amarena e poi lo vedremo, fare la dissuasione su una femmina con quattro cuccioli avrebbe comportato un'altra serie di problemi. La storia di questi nove orsi qual è stata? Liberata la femmina che girava nel versante molisano del parco, venne investita sulla statale, quella che da Colli sale verso la Fondovalle, sopra Rionero, due orsi, Serena e Mario, sono stati uccisi con episodi di bracconaggio, Yoga è finita in cattività e poi è morta nel 2019 di Vecchiaia, e gli altri, Gemma, Peppina, Giacomina, Marena e Juan Carrito, sono vivi, girano e variamente battono dei colpi di Juan Carrito, parleremo alla fine perché è un episodio particolarmente importante. Le situazioni più critiche che il parco negli anni si è trovato a gestire e ad affrontare, innanzitutto il nostro contesto, il contesto territoriale, poi qui non si vede, aspetta che tolgo questo, vediamo se... ok, che cosa ci hanno insegnato gli orsi a noi e che cosa abbiamo, io dico, ho messo tra virgolette perché è chiaro che insegnare qualcosa agli orsi sembra... è troppo antropocentrico, ma insomma in questo scambio diciamo che abbiamo imparato delle cose e abbiamo provato a indirizzare gli animali in una migliore... allontanarsi almeno dai paesi. Allora, la prima criticità è quella dell'abbondanza delle risorse di origine antropica all'interno di piccoli centri abitati, perché la gran parte, ora lasciamo perdere Roccaraso, che è un caso a sé stante, ma la gran parte dei comuni del parco dà lo stesso scanno, insomma non è una realtà urbana, non è che Gemma poi frequentasse, sì faceva le scorribande dentro al paese, ma insomma andava sempre alla ricerca di altro. Però il grosso da San Sebastiano, Bisegna, Ortona, Villetta Barrea, Barrea e via dicendo, parliamo... Villa Vallelonga, perché no? Insomma parliamo di realtà comunque dove c'è un'abbondanza di orti, di frutteti e ovviamente di altre situazioni. E qui la prima indicazione qual era? Che non sempre si riescono a mettere in sicurezza tutte le risorse alimentari, qualche volta c'è stata la non collaborazione da parte di comuni che addirittura hanno impedito la rimozione di frutta perché gli orsi devono poter mangiare e quindi qua ci troviamo di fronte alla prima criticità, cioè impedire la raccolta della frutta, impedire addirittura la fruttificazione è davvero un'utopia, cioè come sposiamo le due esigenze che poi sono da una parte la sicurezza e dall'altra ovviamente quello di evitare che gli orsi frequentino, ma abituandosi sempre di più i centri abitati. La seconda criticità è quella dei pollai, in alto a destra vedete la realtà di Collelongo, dove in giallo ci sono i pollai censiti all'interno del centro abitato di Collelongo e in rosso sono le localizzazioni di M19. Ovviamente questa abbondanza di strutture che spesso sono strutture fatiscenti, la normativa ovviamente non sempre chiara, non sempre univoca e quindi genere e determina altri problemi. Io ricordo che nella primissima fase di Gemma, inizio anni 2000, di Gemma che scorrazzava all'interno di Scanno, ci fu una proposta di regolamentare, fare una sorta di piano regolatore dedicato per la realizzazione di pollai che poi è rimasto ovviamente lettera morta. Il parco si è dotato, ha sperimentato questi pollai anti-orso che qualcuno brutalmente definisce come dei forni a microonde per le galline, in realtà sono stati sperimentati, funzionano belli o brutti che siano, c'è qualcuno che le ha colorate con della vernice per rendere meno evidente l'acciaio zincato, insomma al di là di tutto funzionano. È chiaro che sono una soluzione ma non è la soluzione, a monte ovviamente ci deve essere tutto un sistema di prevenzione e noi su questo stiamo lavorando tantissimo, tant'è che dall'inizio dell'anno stiamo girando in tutti i paesi con il nostro personale per andare a fare la verifica se i pollai funzionano, le recinzioni, le strutture eccetera eccetera. Terza grande, grandissima criticità che riguarda fondamentalmente l'area marsicana, i famosi carotai. Il fucino è la terza area agricola italiana, una delle produzioni più abbondanti e più numerose è ovviamente quella delle carote, carote che quando non vanno al mercato, un po' come avviene per esempio con l'arancia in altri contesti, diventano alimentazione complementare per vacche, cavalli che stanno al pascolo, brado e semibrado. Sono a tutti gli effetti degli scarti agricoli, vengono utilizzati malissimo per alimentare gli animali perché? Perché poi alla fine chiaramente si genera questa promiscuità e il fatto che molti degli orsi confidenti provengono dall'area dei carotai è un dato oggettivo, così come un altro dato che in qualche modo potrebbe essere letto in trasparenza, ma nemmeno tanto in trasparenza, è che quando si parla di alimentazione supplementare, più alimentazione supplementare di questa probabilmente non esiste il problema e che ovviamente sta in zone, spesso in prossimità di aree urbane e quindi l'apprendimento culturale degli orsi è quello di vivere, mangiare, dormire, frequentare tranquillamente centri abitati dove hanno grandissima risorsa alimentare. La storia di Mario la dice lunghissima, Mario animale poi ucciso con un atto di bracconaggio di cui purtroppo non si è riuscita a capire nulla, però sostanzialmente Mario frequentava per la gran parte del tempo i carotai. Allora in tutti questi contesti sostanzialmente che cosa si è deciso di fare? che molto spesso si è deciso di non fare la dissuasione, perché poi se si vanno a leggere i dati di quante volte si può fare, è stata fatta o non è stata fatta la dissuasione, la dissuasione intesa proprio come dissuasione attiva, uso cioè dei fucili con dei proiettili di comba. E soprattutto questa è stata totalmente evitata nei contesti in cui c'era un ottimo livello di prevenzione, perché a quel punto la dissuasione quasi non serve, gli animali arrivano, trovano la porta chiusa, quindi non riescono ad accedere alla risorsa alimentare e vanno oltre. La quarta criticità è ovviamente il contesto sociale, che è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni. Noi siamo passati da Gemma, che a Scanno aveva scatenato addirittura una sorta di… c'erano due partiti, chi se la ricorda la storia, negli anni credo 2014-15 ci fu un signore di Scanno che fece una raccolta di firme, 600 firme raccolte in una settimana, di persone che chiedevano l'allontanamento di Gemma da Scanno. Nel giro di tre giorni, l'altra metà del paese, molto più dell'altra metà, mille e passa persone, raccolsero altrettanto firme per dire guai a chi si azzarda a toccare Gemma. Il problema è che però negli ultimi anni la complessità è aumentata. Perché? È perché Amarena poi ha fatto, se volete, Amarena con i quattro cuccioli che girava alla periferia di Villa Lago, piuttosto che di Bisegno San Sebastiano, è il caso emblematico. Gli assembramenti di persone, di curiose che corrono dietro a questi animali, ovviamente rendono praticamente impossibile qualunque azione di dissuasione. La prevenzione spesso va, così come abbiamo detto, alcune ordinanze sono efficaci, altre ordinanze sono inapplicabili sostanzialmente. Io ricordo banalmente che i guardi a parco, fuori dai confini del parco, da un punto di vista proprio operativo, hanno funzioni di polizia giudiziaria limitatamente all'attività dell'antibracconaggio. Quindi pur volendo multare qualcuno che non rispettava l'ordinanza del sindaco di Villa Lago all'epoca di Amarena, i guardi a parco non potevano operare senza contare ovviamente tutto il contesto che poi si sarebbe scatenato, ha multato per questo, per quello e per quell'altro. E questo è diventato un problema, come dire, abbastanza serio. Le conclusioni rispetto a questo discorso. Allora, monitorando gli orsi confidenti, sostanzialmente abbiamo scoperto che vivono in un contesto ambientale critico, pieno di trappole ecologiche e ovviamente per superare questa criticità, per superare questi problemi, è importante che tutti i soggetti acquisiscano la piena consapevolezza. Carrito, poi lo vedremo, ma è stato veramente scolastico. Carrito ci ha messo di fronte a dei problemi che, banalmente, l'uso dei rifiuti, che fino a Carrito nessun orso in passato aveva utilizzato in maniera sistematica, continuativa e costante. C'era stato l'episodio dell'orso su ai campeggi scout di Reggio e dei Marsi, ma iniziato e finito, interrotto quel sistema, nessun orso poi aveva avuto accesso o andava sistematicamente e è andato sistematicamente ai cassonetti dei rifiuti. Carrito ha cambiato completamente la prospettiva e da questo punto di vista è chiaro che dobbiamo essere assolutamente pronti. gli orsi problematici non sono solo un problema perché poi rappresentano un'occasione importante per sperimentare e mettere a sistema buone pratiche. Anche da questo punto di vista Carrito ha fatto la differenza, ma prima ancora di Carrito la collaborazione con le associazioni, non perché siamo ospiti di Salviamo l'Orso, ma Salviamo l'Orso nel giro di pochi anni ha messo in piedi una organizzazione territoriale che sostanzialmente operativamente ha quasi integrato e sostituito il lavoro massivo che fino ad anni prima aveva fatto il WWF, però è anche l'integrazione operativa che c'è in tante realtà, penso a Pettorano piuttosto che a comuni del versante marsicano del Parco e questo ovviamente è un passaggio molto importante perché significa che c'è una società civile che si dedica a queste cose e che non è solo l'istituzione, la regione, il parco, il ministero che deve preoccuparsi. Allora le buone pratiche ovviamente quando diventano poi operative, diventano diffuse, è chiaro che fanno la differenza. L'ultima valutazione è che il futuro dell'Orso, contrariamente a quello che pensano i già primi, secondi, terzi, quarti, studiosi della storia dell'Orso marsicano e che l'ultimo orso l'hanno visto nel 73, 74, 75, tanto per non andare lontani, sapete a chi mi riferisco, sostanzialmente la conservazione di questa specie è su grande scala, è fuori dai confini limitati del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove le ricerche dell'università, per prima quella, il gruppo di lavoro di Paolo Ciucci lo ha evidenziato benissimo, qua dentro stanno strette addirittura gli animali e quindi è importante che ci sia questo, ma è rischioso però che nei territori di potenziale espansione sussistano elementi di criticità. Qualche giorno fa di un orso che su nella zona di Amatrice è andato a predare gli apiari, apiari che però erano stati probabilmente, non lo so, forse dico una inesattezza, predati già l'anno scorso, ma che stavano senza recinzione elettrificata. Allora è chiaro che lì deve diventare sistematico questo tipo di operazione e questo tipo di intervento. Quindi la prevenzione fa moltissimo la differenza, grandissimo merito va dato alla rete di monitoraggio del Lazio prima e Abruzzo e Molise dopo, perché la raccolta dei dati in questo, i fondi che il Ministero ci ha dato l'anno scorso e due anni fa e che ci hanno permesso di avere una rete territoriale integrata ovviamente con il lavoro fondamentale di tutti i soggetti dalle piccole riserve, dai parchi regionali, ovviamente dai carabinieri forestali, ma le informazioni che si stanno raccogliendo in questi giorni stanno arrivando i risultati del campionamento, della genetica. Io sono molto curioso di arrivare a, di avere i dati, perché è vero che negli ultimi due anni abbiamo fatto il lavoro del monitoraggio delle femmine con i cuccioli, però le informazioni sulla genetica nell'areale periferico e nella zona periferica faranno, hanno fatto e fanno la differenza. Il caso di Carrito. Carrito nasce all'interno del gruppo familiare di Amarena con i suoi tre fratelli. Il fatto che Amarena abbia deciso di far, come dire, allevare sostanzialmente questi quattro cuccioli a bordo di un paese lascio probabilmente sicuramente a Paolo e ad Andrea che tecnicamente ne sanno più di me, ma è chiaro che è una scelta legata più a un problema, a un problema, a un'opportunità di ridurre la pressione intraspecifica su quel nucleo familiare e non evidentemente a un problema di abbondanza di risorse alimentari. È chiaro che le zone che Amarena ha frequentato erano assolutamente ricche di risorse alimentari e quindi la scelta da parte nostra nell'estate tutto il 2020 è stata quella di non intervenire con azioni di dissuasione e garantire l'ordine pubblico, la sicurezza in modo da tenere lontani gli orsi dai pericoli di attraversamenti stradali e anche i cani stessi che giravano per la periferia dei tre paesi che sostanzialmente poi hanno frequentato e ovviamente la sicurezza delle persone. La scelta è stata giusta col senno di poi ovviamente siamo tutti quanti bravi noi subito ci attivammo il servizio scientifico del parco la dottoressa Radini ha fatto un lavoro eccezionale come sempre ma insomma ci siamo attivati abbiamo sentito tutta una serie di esperti c'è stata una consultazione su Scala Vasta ovviamente internazionale di gente che fa quello di mestiere secondo alcuni sarebbe stato meglio intervenire subito secondo altri addirittura sarebbe converrebbe in questi casi allevare i piccoli in cattività secondo opportuni protocolli e poi rimettere perché questo avrebbe ridotto la probabilità di insorgenza di comportamenti confidenti nei cuccioli piuttosto che non intervenire per niente è chiaro che Amarena è stato un fenomeno particolare finora insomma almeno in epoca recente unico la storia ci dice che Carrito è l'animale che da quel nucleo familiare ha fatto che cosa a maggio 2021 si è separato dal resto della famiglia la genetica ci dice che appunto lo individuo è in M20 genetica che avevamo già ovviamente preso fatto il confronto con i dati del 2021 i dati con i dati del 2020 e il 21 maggio per una sequenza di comportamenti avvistamenti continui nei centri abitati tra Ortona Carrito stava praticamente passava la gran parte del tempo lì dentro l'abbiamo catturato e abbiamo deciso di cominciare le azioni di dissuasione intensificando ovviamente le attività della prevenzione perché Carrito passava la grandissima parte del tempo all'interno dei centri abitati nei primi tre mesi abbiamo registrato dei piccoli cambiamenti nell'atteggiamento ma sostanzialmente il comportamento spaziale dell'Orso restava lo stesso poi da agosto Carrito ha cominciato ad alimentarsi nei cassonetti soprattutto a Villa Lago con una certa frequenza nell'autunno si è stabilito praticamente a Roccaraso e lì ha cominciato appunto questa frequentazione continua costante dei cassonetti di tanti alberi da frutta all'interno del paese ma c'era anche tanto cibo che veniva lasciato dalle persone perché ha povero Carrito c'ha fame e quindi chi gli ha lasciato dieci chili di mandorle da una parte probabilmente inconsapevolmente ma insomma roba di questo genere la frutta una mattina mi chiamo nei guardi a parco dice Carrito sta mandando le mele sta sotto vedi la foto stava sotto Anna Bete scusate o la Bete ha cambiato abitudine oppure qualcuno la frutta ce l'ha messo qualcuno la frutta ce l'aveva messo visto il comportamento spingiamo molto per la per la rimozione e la messa in sicurezza dei cassonetti cosa che non siamo riusciti ad ottenere alla fine di dicembre sapendo il periodo che stava arrivando e attenzione lì già c'era stato come dire un tantissimo lavoro e il sistema Batom io lo chiamo così aveva stava lavorando perché c'era il coordinamento del ministero dell'ambiente c'era Ispra dei supporti ma noi la regione Abruzzo e il parco della Maiella ci stavamo ovviamente confrontando continuamente anche e i carabinieri forestali per il supporto ovviamente e quindi viene fuori il primo protocollo dove buttiamo giù le tre ipotesi cioè possibilmente lo portiamo alla Laga in alternativa alla Maiella ma pur di toglierlo dal casino di Roccaraso intanto proviamo ad allontanarla visto mai che ci fa una sorpresa la traslocazione del 7 dicembre sapete tutti noi eravamo consapevoli di questa cosa però un tentativo l'abbiamo fatto ma proprio per evitare i pericoli soprattutto per l'incolumità delle persone e per l'incolumità di Carrito perché il volume di traffico di Roccaraso nei periodi diciamo della stagione scistica sono spaventosi e però Carrito dopo una settimana più o meno dieci giorni ritorna a Roccaraso dopo la traslocazione e fortunatamente alla fine dell'anno va in ibernazione e si sparisce dalla circolazione poi è ritornato in giro all'inizio di febbraio da allora l'attività è stata seguita curata direttamente dai colleghi del parco della Maiella e la storia recente sapete sapete come è andata però un po' di dati un po' di informazione non so se sto rubando troppo tempo ma c'è un altro due slide allora per dire il fenomeno Carrito Carrito ha frequentato 13 centri abitati con un areale che va sostanzialmente da Collarmele fino a Castel di Sangro passando ovviamente per tutto quello che ci stava dentro compreso una puntata a Pescassero lì insomma si era girato Scanno tutto quanto questo territorio utilizzando intensamente i centri abitati talvolta anche di giorno quando frequente i centri abitati Carrito il monitoraggio ci ha detto questo reagiva diciamo alla presenza sia con comportamenti neutrali cioè restava fermo oppure si immobilizzava dopo i primi quattro mesi l'attività di Carrito era diventata maggiormente notturna e quindi dei risultati erano stati ottenuti perché all'inizio Carrito sostanzialmente anche di giorno girava per i paesi però la notte chiaramente entrava dentro ai centri abitati interessante questa invece l'analisi della reazione alle persone perché nel 74% dei casi aveva come dire c'era una fuga alla vista degli operatori questo dopo quattro mesi nel 26% dei casi c'erano vocalizzazioni soffi falsi attacchi e 10% c'erano come dire delle reazioni difensive per cui il comportamento di Carrito grazie al condizionamento negativo aveva come dire prodotto dei primi risultati Carrito però poi ha scoperto appunto i cassonetti e praticamente noi abbiamo fatto la metà degli interventi il 49% presso i cassonetti e i dati sono questi che vedete non c'è mai stato un atteggiamento come dire aggressivo di Carrito però Carrito poi alla fine dell'anno scorso pesava più di un quintale quindi era un animale che pesava il doppio di quello che pesano normalmente gli orsi a quell'età e quindi evidentemente rappresentava sicuramente un problema ma il problema ancora più grande era appunto quello che vedete nella foto cioè lui rovesciava i cassonetti che trovava in abbondanza che cosa che cosa significa tutto questo significa che ovviamente il alcuni problemi si possono presentare come dire si possono ripresentare si possono essere costanti e alcuni si possono presentare all'improvviso non ci sono come dire le risposte a tutte le domande e questo lo sa bene chi si occupa di orsi lo sa bene chi continuamente sta sul territorio chi continuamente fa attività di monitoraggio e quindi ovviamente bisogna avere anche un atteggiamento estremamente elastico adattativo rispetto a come dire alla domanda ma dobbiamo aspettarci un peggioramento di questa tendenza di questa abitudine io la risposta non ce l'ho potrebbe essere sì nel caso in cui aumenta così come apparentemente sta aumentando la frequentazione degli orsi rispetto alla maggiore pericolosità è chiaro che se Carrito così come è successo anche ai nostri operatori te lo vai per fare monitoraggio e te lo trovi nascosto dietro al cassonetto e la come dire la reazione di un animale che viene colto di sorpresa è chiaramente la difensiva e quindi la difesa ovviamente con il falso attacco e lì non sai mai che cosa può succedere però in generale l'atteggiamento non è mai stato quello di un atteggiamento come dire aggressivo e quindi però l'interazione maggiore sono le possibilità di interazione maggiore il numero di persone maggiore ovviamente sono i rischi a cui andiamo incontro rispetto alla domanda perché ci si potrebbe ripresentare magari fosse una situazione analoga a quella di Amarena intervenire prima quindi andare incontro a quella opzione pigliamo i cuccioli li alleviamo senza la mamma così non crescono confidenti e poi si rimettono in natura sì ovviamente ci vogliono delle strutture dedicate ma stiamo parlando di operazioni abbastanza complesse è importante ovviamente avere consapevolezza della gestione di tutto il territorio perché l'espansione della popolazione cioè gli animali che ora stanno frequentando l'area settentrionale dell'Abruzzo a cavallo tra le province dell'Aquila e Rieti è chiaro che stanno frequentando territori dove la consapevolezza della presenza dell'orso non è così alta allora vai incontro a episodi tipo quelli di Mario che è stato bracconato o episodi che incidentali non sono come quello di Pettorano sul Gizio cioè gente che perde la brocca e che alla fine ti ammazza un animale è chiaro che rimuovendo al contrario l'animale si può supporre di avere maggiore supporto nella gestione degli altri orsi confidenti e quindi sacrifici un animale per dare forza alla popolazione Carrito è un caso molto particolare si tratta di un maschio quindi come dire un contributo che tecnicamente scientificamente può essere considerato trascurabile sulla dinamica della popolazione così come geneticamente può essere colmato da quello di altri fratelli Carrito ci ha come dire stressato nel senso che 348 turni di controllo sono stati un investimento non è stata una spesa però ha messo in evidenza tutte le incoerenze che ci sono sul territorio e tutti quanti come dire anche lì abbiamo rifatto più riunioni con esperti internazionali più richieste di supporto di informazioni ma che cosa facciamo ovviamente tutti gli esperti i biologi della conservazione ti dicono ti devi concentrare sulla popolazione e non sui singoli individui però è chiaro che quando hai una popolazione piccola come la nostra evidentemente il singolo fa la differenza e quindi la conservazione di una specie particolarmente minacciata come quella dell'orso marsicano va giocata in squadra e la squadra istituzionale con M20 ha fatto un salto di qualità ve lo posso assicurare ed è stato un salto di qualità notevolissimo perché la la diciamo il salto in avanti più grande gli va riconosciuto l'ha fatto la regione Abruzzo la regione Abruzzo è stata parte attiva in tutta la gestione da un certo punto della storia di Carrito in poi e questo ovviamente merito di una presa di consapevolezza che prima non c'era è il merito del dirigente il merito della struttura parlo di Sabatino Belmaggio parlo di Serena che sono stati determinanti in tutti i passaggi che abbiamo fatto e questo vi assicuro come dire seguendo la storia degli orsi da ormai da più di 20 e passa anni fino all'anno scorso questo non c'era ultima slide tutto questo è tutto no perché la criticità numero 4 cioè quella della gestione del contesto sociale alla fine il problema degli orsi è che siamo alla tifoseria noi siamo riusciti ad arrivare alla tifoseria ovviamente sul covid ora siamo alla tifoseria sulla guerra cioè una gestione armata di uno stato su un altro stato sovrano ma figuriamoci se non siamo alla tifoseria sugli orsi la gestione troppo spesso viene anche intralciata se volete da una montagna di superficialità leggende metropolitane di stregoni delle ricette un tanto al chilo io mi sono documentato il parco si è documentato facciamo rete con altri ricercatori altri scienziati personalmente credo che tanto per sgombrare il campo perché tanto so che sarà una delle domande l'alimentazione supplementare ritengo sia sbagliata da un punto di vista etico gli animali sono animali selvati se io gli devo dare da mangiare significa che già li sto portando verso una domesticazione tutti gli studi ce n'è uno che dice ah sì l'alimentazione supplementare può funzionare ma altre dieci che ti dicono esattamente il contrario allora noi non dobbiamo assolutamente pensare di domesticare questi animali o di governare gli animali con una carcassa buttata di qua o una buttata di là e tutto quanto questo riporta ad una responsabilità di tutti gli attori che sono attori istituzionali soggetti istituzionali ma singoli cittadini che hanno dovere di chiedere informazioni hanno diritto di avere delle informazioni puntuali e noi con la One Carrito Story penso che come dire abbiamo raccontato passo passo quello che stava succedendo ma sono tenuti ad una responsabilità rispettando il lavoro di tutti rispettando il lavoro delle associazioni degli enti e rispettando avendo anche il senso di sapere che poi ci vuole un tempo perché certe soluzioni possano trovare o meno dare dei risultati e soprattutto sapendo che la scienza non è mai definita e quindi il giorno dopo potresti scoprire una cosa sostanzialmente diversa grazie scusate se ho rubato del tempo a qualcuno tutti finiti o allora ringrazio il dottor Sammarone sicuramente vi è un elemento che ha suscitato il mio interesse sicuramente all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo e nelle politiche di gestione dell'orso marsicano c'è un elemento che seppur sia corretto focalizzarsi sulla popolazione la popolazione è così ridotta che anche un individuo può avere un ruolo importante nella prosecuzione della specie e mi ha stato venire in mente questa considerazione quanto ho letto nel prendere visione del protocollo che era stato redatto nel 2012 se non sbaglio dove si dà un'accezione di problematicità anche diverse rispetto a quella che emerge nella gestione dell'orso in provincia di Trento e in quel documento relativo al Parco Nazionale dell'Abruzzo dell'Azio Molise la problematicità consisteva proprio in questo nel trovarsi di fronte ad una situazione nella quale ci si si è costretti in qualche modo ad intervenire sottraendo alla popolazione un individuo e questo sulla base di processi nei quali l'uomo può svolgere anche un ruolo attivo di responsabilizzazione come già può essere responsabile insomma con comportamenti che non sono corretti cederei la parola al dottor Mustoni che lavora presso il Parco Naturale ad Amello Brenta è stato chiesto di dare una breve rappresentazione sulla nascita del progetto Life Ursus e sulle politiche che attualmente gestiscono sono utilizzate per gestire la presenza dell'Ursus grazie mi sentite sì grazie buongiorno a tutti intanto grazie dell'invito e grazie agli organizzatori sia per il piacere di essere qui con voi sia anche per il fatto che occasioni di questo tipo mi servono anche per fare sintesi per ristudiare certe situazioni e per rifocalizzare l'attenzione su temi importanti e rilevanti come quello degli Orsi Confidenti mi permetto però di iniziare con un brevissimo ricordo vorrei ricordare il collega Franco Perco che è venuto a mancare qualche giorno fa e che ha fatto tanto lui per primo per la fauna italiana ricordo anche con con grande piacere le ultime chiacchierate che abbiamo fatto al telefono con Franco Perco proprio anche sugli orsi problematici Franco era un grande appassionato di carnivori nonostante abbia lasciato un segno nella conservazione e nella gestione degli ungulati soprattutto ma era anche un appassionato di carnivori quindi abbiamo avuto modo di discutere delle questioni che stiamo affrontando anche questa mattina quindi un grazie a Franco Perco anche un titolo della presentazione io intanto provo a far partire la condivisione del mio schermo e mi dite se se la vedete la vedete no adesso la vedete ecco orsi fastidiosi e la problematicità dei documenti io sono convinto lo dico con un sorriso che questo titolo un po' che un po' non manca una provocazione spero comunque una provocazione costruttiva sarebbe piaciuto proprio anche al Perco perché vuole essere uno stimolo ad una riflessione un po' più profonda ma prima della riflessione profonda mi permetto anche un paio di banalità ma di utili banalità gli orsi sono animali tranquilli alla fine fine anche se ci sono delle differenze evidentemente tra gli orsi che si trovano sugli appennini gli orsi che si trovano anche nelle nostre zone sulle alpi delle differenze di comportamento sono animali però tranquilli tanto che se fossero più tranquilli probabilmente non saremmo qui a parlarne ma se fossero meno tranquilli di quello che sono meno quindi pacati di quello che sono probabilmente sarebbero ormai estinti quantomeno nell'Europa nell'Europa centrale non sarebbero tollerati dalle nostre società invece sono una via di mezzo perché sappiamo che occasionalmente gli orsi sono capaci di gesti anche di grande violenza e questa cosa evidentemente ci preoccupa molto perché la confidenza degli orsi che possono essere violenti ci preoccupa cioè noi in generale come persone non diamo molta confidenza ai violenti o non dovremmo farlo o non siamo portati a farlo quindi l'osso un po' ci preoccupa altre volte invece non sono né confidenti né violenti ma sono semplicemente affamati e quando diventano affamati a volte diventano fastidiosi l'abbiamo visto prima anche con diverse immagini portate dal direttore San Marone e tra l'altro a volte quando sono dannosi ci preoccupano anche perché in queste immagini vedete una mangiatoia utilizzata per la caccia qui in Trentino costruita da robuste assi di 4 cm di larice sfondate come se nulla fosse quindi anche certe immagini di danni ci preoccupano ci danno sicuramente un certo timore altre volte non sono solo affamati ma diventano anche pericolosi nel vero senso della parola questa fotografia l'ho scattata io l'ho rubata ad un orso che aveva un atteggiamento aggressivo nei miei confronti proprio di fianco a casa a casa mia mi guardava con degli occhi per nulla amichevoli abbassandosi arruffando il pelo proprio perché stava mangiando e quindi prendiamo con coscienza consapevolezza del fatto che gli orsi possono essere anche pericolosi quindi non solo violenti non solo pacati hanno molte caratteristiche tanto che questo è il primo punto di sintesi che mi permetto di fare oggi sono numerosi gli aggettivi che noi tecnici utilizziamo anche nell'ambito del tema che stiamo qui a trattare oggi confidenti fastidiosi problematici dannosi pericolosi poi con una battuta potremmo dire che spesso invece durante le serate pubbliche di aggettivi ne sentiamo anche molti altri da inaccettabili a terribili fino anche a soffici pelosi carini belli e quant'altro però di fatto al di là delle amenità era qui che volevo arrivare io penso che tutto il tema si giochi su tre su tre concetti quello della confidenza della dannosità e della pericolosità noi sappiamo che gli orsi confidenti sono pericolosi l'abbiamo ascoltato anche prima nella relazione che mi ha preceduto cioè si avvicinano all'uomo e semplicemente la prossimità nei confronti dell'uomo è una fonte di preoccupazione per tutto quello che ci siamo detto sappiamo anche che la dannosità può essere pericolosa perché avvicina anch'essa gli orsi agli uomini e la confidenza è un tutt'uno con la dannosità perché molto spesso gli orsi confidenti sono quelli che si fidano di più ad arrivare vicino ai paesi o vicino alle fonti di origine alimentare antropica e quindi che diventano pericolosi appunto e dannosi quindi si gioca su questa triade di concetti molto del discorso che vi voglio proporre oggi in generale però ancora una volta visto che ho parlato di aggettivi e di concetti direi che tutti gli orsi che hanno caratteristiche di confidenza di dannosità o di pericolosità vengono generalmente definiti come orsi problematici penso che la terminologia e anche in questo caso mi devo ricollegare a Franco Perco sia molto importante per riuscire a capirci almeno tra di noi perché su diversi documenti in generale storici che ho avuto modo in questi giorni di riprendere in mano per la giornata appunto che mi è stata proposta ci sono delle parole che sono usate quasi come sinonimi o usate con forse un po' troppa leggerezza parliamo un minimo di dannosità quindi che è uno dei tre elementi che possono portare a definire la problematicità di un osso e di alcuni dati in Trentino Trentini tratti dal rapporto grandi carnivori che viene redatto tutti gli anni da parte della provincia autonoma di Trento i dati sono riferiti agli indenizi del 2020 e vi invito a focalizzare l'attenzione non tanto sul loop evidentemente oggi parliamo più di orso e al fatto che i danni complessivi pagati dalla provincia autonoma di Trento nel 2020 sono stati di circa 150 mila euro ora la domanda che mi faccio a parte il fatto che a questi 150 mila euro vanno anche aggiunti dei soldi che sono stati spesi per le misure di prevenzione la domanda che mi faccio è se siano dei danni significativi o meno non voglio darvi una risposta ho più domande che risposte oggi non so se siano dei danni significativi o meno soprattutto se vado a pensare a circa il milione di euro che mi risulta essere pagato ogni anno per i danni provocati dalla cervo in provincia di Trento mi viene da pensare che nel caso della fauna la legge non sia uguale per tutti gli animali e che ci sono degli animali che pagano uno scotto maggiore quando provocano dei danni piuttosto che di altri e forse che i danni da carnivoro non sono solo un problema di carattere economico ma sono anche un problema di carattere sociale ed emotivo forse emotivo legato proprio al fatto che gli animali dannosi come gli orsi che provano con un certo tipo di danno e che ci provano con un certo tipo di paura appunto sono sotto una lente di ingrandimento dalla quale sfuggono altre specie siamo noi in definitiva che decidiamo se un danno provocato dagli orsi è un problema serio oppure un fastidio oppure qualcos'altro tutto questo per dire che forse il vero problema i veri orsi problematici in questo momento sono gli orsi pericolosi cioè il vero problema era quell'osso che mi guardava con gli occhi iniettati di sangue davanti a casa mia in montagna il vero problema è quello tutto sommato nel momento in cui incontro un osso veramente pericoloso di quanti danni vengono pagati dall'amministrazione pubblica tutto sommato almeno in quel momento me ne posso fare anche una ragione prima di tutto dobbiamo pensare alla nostra incolumità e permettetemi quindi anche una forzatura tutto sommato perché nel 1996 è partito il progetto l'ifursus nel 98 lo studio di fattibilità realizzato dall'allora istituto nazionale per la fauna selvatica che già prevedeva il fatto che gli orsi potessero aggredire le persone anche in Trentino e che ci potesse essere detto brutalmente uno spargimento di sangue chiaro che poi aumentando il numero degli orsi a partire dei 10 fondatori adesso abbiamo superato abbondantemente le 100 unità la situazione si è fatta sempre più più grave e preoccupante di fatto però all'inizio del progetto di reintroduzione noi proprio per le paure manifestate nello studio di fattibilità da parte dell'istituto nazionale per la fauna selvatica eravamo andati a recuperare dati a cercare di affrontare il progetto ancora prima delle liberazioni delle prime liberazioni del 1999 attraverso delle indagini rispetto a tutto quello che era stato fatto in precedenza tra questi anche un progetto LIFE realizzato in Austria nel contesto del quale nel 1997 quindi prima delle nostre appunto reintroduzioni veniva portato un piano di gestione che riportava questa immagine che almeno nella mia percezione già allora era affascinante un'immagine fatta con una piramide o un triangolo in questo caso riferito al tema della pericolosità degli orsi anche se poi nel titolo guardate nel titolo problem bear cioè orsi problematici poi nell'immagine invece si porta una piramide di pericolosità che riporta sulla destra tutta una serie di azioni che qui siamo andati a tradurre che fanno sì ci fanno capire che l'orso aumenta la sua pericolosità il rapporto al tipo di comportamento che ha sul territorio passando dalle righe più alte a quelle più basse dove appunto la base del triangolo nero della pericolosità è più alta si parla solo di pericolosità non si parla in realtà di confidenza non si parla nemmeno di dannosità se non con riferimento al fatto che gli orsi dannosi possono essere più pericolosi vi leggo solo una stringa tra queste penso che sia la settima l'ottava un osso fa dei danni vicino a edifici abitati non è il problema tanto del fatto che faccia dei danni quanto che li faccia in un posto dove c'è della gente che abita e quindi evidentemente in un posto dove l'osso può entrare in contatto con l'uomo e manifestare la sua pericolosità sulla base di questo comunque concetto anche nel progetto Life Ursus nel protocollo per l'individuazione degli interventi sugli orsi problematici è stato realizzato uno schema del tutto simile devo dire con la stessa filosofia nelle pagine successive di questo documento peraltro veniva associata ad ogni gruppo di azioni che l'osso poteva mettere in campo sul territorio una risposta da parte dell'uomo che passava da un aumento del monitoraggio fino ad arrivare anche alla rimozione non all'abbattimento degli orsi cosa che non c'era stata concessa inserire da parte del ministero ambiente perché il documento protocollo per l'individuazione degli orsi problematici faceva parte di un pacchetto di azioni preparatorie di documenti preparatori in base al quale il ministero ambiente per l'ambiente aveva realizzato nel 1998 un decreto ministeriale che passava addirittura cosa che a pensarci oggi fa venire qualche brivido evidentemente tutte le decisioni in merito ai provvedimenti da adottare in Trentino nei confronti degli orsi definiti appunto problematici ad un comitato operativo orso quindi non più sotto la propria regida ma un comitato operativo orso costituito dai rappresentanti di tre organismi il parco la provincia e l'istituto nazionale per la fauna selvatica quindi nel caso in cui noi avessimo dovuto rimuovere un animale non saremmo dovuti passare nemmeno più dal ministero ma da una decisione del comitato operativo orso che però appunto non poteva permettersi l'abbattimento degli orsi perché la massima pena infliggibile ad un osso problematico ovvero pericoloso in questo caso specifico era la rimozione per la detenzione in un in un recinto poi il life usus è finito nel 2004 c'è stato un periodo di latenza nel quale probabilmente valevano ancora le indicazioni date nei protocolli del life usus stesso fino ad arrivare all'approvazione del pacco bacce nel 2010 che ha riportato nelle sue pagine uno schema del tutto simile quindi a quello riportato nel piano d'azione austriaco e poi successivamente nel piano d'azione del life italiano con una piramide questa volta colorata anche di rosso e verde più bella senza ombra di dubbio ma che riporta alle stesse sostanzialmente alle stesse azioni riportate nei documenti precedenti parlando sempre di grado di pericolosità degli orsi e quindi lasciando perdere ancora una volta la dannosità tra l'altro un paio di appunti su questo un primo appunto è che si parla anche di abbattimento nel pacco bacce l'azione K supera le azioni prevedibili previste nei documenti precedenti che vi ho citato fino ad arrivare alla possibilità di abbattere degli orsi una seconda annotazione è che molte delle azioni fatte dall'orso possono vedere come azioni suggerite da parte dell'uomo come reazioni da parte dell'uomo le azioni di condizionamento lo scopo di ripristinare la diffidenza nei nostri confronti molte delle azioni come vedete soprattutto le azioni leggere riportate nella colonna sicuramente questo schema è più elaborato rispetto a quelli precedenti del life austriaco tanto che porta soprattutto molte azioni prevedibili o previste o possibili nei confronti degli orsi nei momenti in cui fanno permettetemi il termine per alleggerire anche la discussione un po' i birichini un'altra questione è che si riporta addirittura nella misura la cattura allo scopo dello spostamento di questi animali cosa che sappiamo è essere assolutamente poco attuabile in un ambiente ristretto come quello alpino così frazionato dal punto di vista amministrativo è tutto sommato così piccolo sappiamo che gli orsi tornano sui luoghi del tra virgolette del delitto quindi un'azione non attuabile senza ombra di dubbio poi vi faccio accendere l'attenzione anche su quel pallino rosso l'azione l'atteggiamento R cioè l'osso attacca per difendere i piccoli perché la cosa non è sfuggita successivamente questa immagine si può trovare anche in rete a qualcuno che ha evidenziato il fatto che tra il protocollo adottato nel pacco base e il protocollo adottato o comunque citato nell'iFarctos esistevano delle distonie potremmo dire cioè nel nel protocollo del pacco base un osso che attacca per difendere i piccoli è passibile di un certo grado di misure tra le quali anche la cattura per la rimozione la misura J in particolare mentre nel protocollo l'iFarctos un osso che attacca per difendere la sua prole porta solo ad una maggiore sorveglianza e ad una informazione delle persone la domanda è tra l'altro una prima domanda poi su questo ci ritorniamo perché penso che sia un tema molto importante chi decide se attuare un'azione di tipo A cioè leggero sto pensando agli atteggiamenti del pacco base oppure chi decide se attuare la I o la J chi decide quale azione suggerita mettere in campo in rapporto all'atteggiamento dell'orso una domanda che lascio assolutamente in sospeso fatto sta che forse per le distonie forse perché è giusto che i documenti si evolvano nel 2015 il pacco base è stato modificato sono state corrette alcune alcune cose tra le quali per esempio anche proprio il il concetto della femmina che difende i cuccioli dividendo scindendo la possibilità che ci sia semplicemente un falso attacco piuttosto che addirittura un contatto fisico che è una cosa sicuramente molto più più grave portando tutta una serie azioni nel primo caso atteggiamento 11 A, B, H, G piuttosto che I e in un altro caso invece fino ad arrivare nel caso dell'atteggiamento 15 fino all'abbattimento però sempre nelle modifiche del 2015 si riportano altri due concetti secondo me molto importanti un primo è che non si parla più solo di atteggiamenti pericolosi nei confronti dell'uomo ma anche guardate l'atteggiamento 14 di orsi che provocano danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione e dissuasione risulta inattuabile e inefficace cioè si riporta non solo alla pericolosità ma anche alla dannosità si riporta agli orsi non solo ad essere pericolosi a essere problematici in senso lato quindi anche dannosi tanto che sempre nella stessa tabella della revisione del pacco basse del luglio del 2015 non si parla più di grado di pericolosità ma guarda a caso in modo assolutamente corretto di grado di problematicità quindi si è fatto se vogliamo una riflessione rispetto al fatto che gli orsi problematici sono sia gli orsi pericolosi sia gli orsi dannosi vi faccio notare anche che molte delle azioni leggere possibili sono quelle del tema H ovvero le azioni di dissuasioni vi butto lì la mia opinione del tutto personale cioè pensare ad azioni leggere del tema H quindi di dissuasione di ricondizionamento degli orsi è sostanzialmente una perdita di tempo io sono convinto che sia addirittura un rischio cioè un'azione leggera per convincere per abituare un orso a non farlo più sembra quasi una contraddizione di termini nel caso delle azioni di ricondizionamento si deve intervenire a mio modo di vedere in modo con grande tempismo nel momento in cui l'orso sta facendo l'azione che non vogliamo che realizzi sul territorio e con grande veemenza viceversa se interveniamo nel momento sbagliato e addirittura magari in modo un po' un po' soffice non facciamo nient'altro che abituare gli orsi alla nostra presenza io temo che questa sia una delle cose temo che è successa anche anche in Trentino detto questo dopo questa chiacchierata ho un paio di domande e qualche riflessione la prima domanda l'ho già buttata sul campo in realtà siamo sicuri che le operazioni di insuosione siano efficaci siamo sicuri che non dobbiamo rivederle in termini proprio di intensità di tempismo piuttosto che invece addirittura abbandonarle mentre la misura H è riportata nel pacco bacce come risposta a numerose azioni degli orsi e poi un'altra è una riflessione io non ho una risposta siamo sicuri che un osso confidente è sempre un osso pericoloso o può essere semplicemente un osso che ha delle abitudini di maggiore confidenza che però poi non si sviluppano in atteggiamenti di aggressione nei confronti dell'uomo e questo è solo un dubbio senza un bedubbio però un altro dubbio che mi viene è che forse forse quindi la mia è anche un po' una provocazione dobbiamo cambiare paradigma e cercare di far sì che quando c'è un osso problematico insensolato sul territorio non si vadano ad individuare solo azioni a carico dell'orso sull'orso ma che si possano anche si possa associare un'ulteriore colonna di azioni a carico degli uomini che vivono sul territorio dove l'orso problematico è presente di suggerimenti di indicazioni per riuscire a far fronte alla situazione perché stiamo parlando comunque sempre in realtà di un conflitto tra due specie che vivono sullo stesso territorio ma ho ancora una domanda perdonatemi che sostanzialmente è un altro dubbio non è che in realtà con tutti questi documenti e torno al titolo della mia presentazione stiamo un po' complicando i criteri gestionali a volte viene anche il dubbio addirittura che la cosa venga fatta quasi ad arte che si complichino le cose per creare una nuvola nella quale poi è difficile riuscire a trovare uso una parola forse fastidiosa le colpe o le motivazioni legate al mancato successo di alcune azioni perché poi alla fin fine quando vedo così tante azioni leggere A, B, C, D, E, F, G azioni energiche pesanti di tutte mi viene anche un'altra domanda in testa ma chi si prende la responsabilità di decidere quali delle tante azioni mettere in campo e quindi nella conservazione degli orsi in Trentino ma probabilmente anche altrove mi domando quanto passa ad una presa di responsabilità politica e quanta è la responsabilità invece dei tecnici che sono chiamati probabilmente a interpretare gli atteggiamenti degli orsi e a suggerire ai politici quale azioni leggera piuttosto che energica mettere in campo e quali sono poi evidentemente le responsabilità di tecnici e politici anche a valle delle indicazioni delle azioni che sono state messe in campo ecco tutto questo per dire che non posso che guardare con un sorriso quasi di compiacimento al modello invece svizzero la Svizzera nel 2006 ha messo in campo un modello a piramide anch'essa la piramide rossa ma molto molto più semplificato ci sono degli orsi discreti ci sono degli orsi problematici ci sono degli orsi pericolosi per questi ultimi atto l'abbattimento senza nessun tipo di discussione mentre per gli altri posso permettermi anche di arrivare a informazioni nei confronti delle persone a prevenire i danni o quant'altro quindi un modello molto semplice che quindi è anche molto meno attaccabile e che è anche molto più comunicabile perché è evidente che in Trentino la comunicabilità la comunicazione legata a tutti i modelli che abbiamo visto in precedenza sia anche utilizzata con doppi fini o in modo distorto guardate anche solo il titolo di questo di questo articolo comparso nel giugno del 2021 sui dolomiti si mette in dubbio il fatto che le operazioni le modifiche proposte al pacco base proposte ai modelli orsi problematici o quant'altro siano fatte quasi solo più per propaganda politica che non per questioni legate alla sostanza non sto dicendo che sia così sto dicendo che però l'interpretazione delle genti in particolare trentine molto spesso è questa tanto che gli articoli che vediamo che compaiono sui giornali sono effettivamente di questo tenore non vi tedio non vado non vado molto oltre evidentemente però vi lascio solo leggere un paio di frasi si dice sostanzialmente che nulla è cambiata che guardando ai modelli precedenti quindi al pacco base anche nel 2021 sostanzialmente nulla è cambiato quando in realtà poi bisogna andare nelle pieghe a cercare di capire che cosa è cambiato rispetto alle possibilità operative ma delle pieghe così sottili che poi alla fin fine quello che è accaduto in provincia di Trento negli ultimi anni è che a fronte del pacco base a fronte delle modifiche del 2015 a fronte di tutto quello che è accaduto in questi anni con stupore si prende atto delle sentenze del Consiglio di Stato che vanno in contrasto rispetto alle possibilità che sono descritte nei documenti che vi ho citato in precedenza in questo caso specifico si chiede addirittura il rilascio di un orso definiamolo in questo caso problematico posto in captivazione presso Trento perché secondo il Consiglio di Stato non c'erano le motivazioni sufficienti per metterlo all'ergastolo sappiamo tutti quanti almeno noi tecnici che rilasciare un orso che è stato per un periodo sufficientemente lungo in un recinto non è una cosa attuabile ed è una cosa sicuramente molto molto rischiosa chi si prende la responsabilità di decidere quali azioni mettere in campo nel momento in cui poi saltano fuori denunce motivazioni del Consiglio di Stato e altro ancora ricordo il caso Danizza d'orsa morta durante un tentativo di cattura e il fatto che sia passata poi dalle aule del Tribunale anche questa questa situazione KJ2 di cui è meglio non parlare perché la sentenza è attesa nei prossimi giorni M49 l'osso che è stato captivato a Castellera che è scappato è ritornato quanto hanno fatto parlare quindi ad ogni azione che viene messa in campo che sia leggera o ancora di più che sia energica rispetto a un atteggiamento dell'orso arrivano comunque delle conseguenze molto pesanti che fanno pensare probabilmente a chi si deve prendere la responsabilità una cosa molto italiana e molto banale cioè ma chi me lo fa fare quindi concludo con un paio di riflessioni la prima è che in mezzo a questa grande confusione a questa nuvola almeno io la percepisco come tale la conservazione di queste specie rimane ricordiamocelo un obbligo di legge lo è di fatto mentre la gestione è un'opzione possibile cioè noi possiamo in realtà intendere la conservazione come un osservare le dinamiche che si evolvono sul territorio intervenendo poco o intervenendo nulla semplificando anche le tabelle che abbiamo visto in precedenza riportate nel Paco Baccia o in altri documenti per altre popolazioni italiane ma la conservazione rimane un obbligo di legge quindi qualche cosa dobbiamo fare quindi alla fine arrivo con un po' di ironia prendetela quindi le mie linee guida evidentemente devono essere intese con più con sorrisi che non con serietà in sintesi rispetto a tutto quello che vi ho detto poc'anzi vi ho buttato lì in realtà poc'anzi le mie linee guida passano da questi punti prima di tutto smettere di parlare di ossi problematici e rifocalizzare l'attenzione su quelli pericolosi a me ai miei convalligiani e a me come funzionario che ha delle responsabilità anche su certe situazioni fanno più paura molto più paura agli ossi pericolosi che non quelli problematici quindi sarebbe il caso di avere evidentemente una di focalizzare l'attenzione su quelli che sono in odore di pericolosità anche per questo motivo si potrebbe o si dovrebbe rivedere la piramide della problematicità o in questo caso della pericolosità prima era la piramide ricordate il triangolo degli ossi pericolosi a partire dal documento austriaco adesso è diventato quello degli ossi problematici ed anche delle azioni correlate con una semplificazione evidentemente non dico di arrivare al modello svizzero però tutto sommato forse si potrebbe anche fare qualche cosa di più simile i tempi cambiano e quindi anche i documenti devono adeguarsi alle situazioni che stanno cambiando poi indubbiamente quello che amerei nelle linee guida per far fronte agli ossi problematici o pericolosi che dir si voglia una maggiore trasparenza nella comunicazione le azioni che si debbono mettere in campo che siano leggeri e pesanti devono essere accettate anche dall'opinione pubblica senza ombra di dubbio devono essere comprese e per fare questo ci vuole una grandissima trasparenza nella comunicazione che parta da ora vi racconto che cosa sta facendo quell'orso fino negli ultimi dettagli e poi ora vi racconto quello che noi abbiamo intenzione di fare su quell'orso e il perché è chiaro che poi come diceva Luciano Samrona si passa anche dal problema del tifo da stadio nei confronti dell'orso di chi odia l'orso e di chi lo ama si passa dal bipolarismo militante che è sicuramente molto pesante per chi deve scegliere quali azioni mettere sul campo però forse anche per questo ci vorrebbe maggiore coraggio passo al punto 5 delle mie linee guida e quindi non aspettare che finisca mandato elettorale ma decidere di fare qualche cosa è meglio fare qualche cosa a volte correndo il rischio di sbagliare questo per tutelare le risorse pubbliche come una popolazione di orso piuttosto che non fare nulla e poi torno al punto 4 in realtà con un salto indietro mettere in campo più azioni preventive che cure palliative cioè dobbiamo cercare sapendo che gli orsi problematici li avremo sempre sul territorio un certo numero di orsi problematici all'interno della popolazione di orsi è assolutamente normale cercare di diminuire il più possibile evidentemente il numero di questi orsi cercando di non metterli nelle condizioni di diventare problematici mi riferisco al tema della prevenzione dei danni ai cassonetti e altro ancora e anche all'educazione delle persone che nel momento in cui incontrano un orso considerando che perché ci sia un'aggressione un incontro ci deve essere devono comportarsi nel modo migliore possibile l'uomo può sbagliare nel momento dell'incontro con l'orso però di fatto più è colto l'uomo più sa gestire al meglio un eventuale incontro con questi animali e più abbassa anche la possibilità che un orso poi diventi pericoloso ovvero problematico forse è un'utopia anche perché rimane anche su questo prendetelo con un po' di ironia rimane almeno nella mia mente la triste consapevolezza che molto spesso chi si prende la responsabilità soprattutto a livello politico di quale azione mettere in campo per far fronte all'atteggiamento dell'orso non conosce gli orsi non li conosce nel dettaglio gli orsi sono animali particolari strani lo sappiamo chi si occupa di questa di questa specie ormai ne ha conoscenza e che quindi vanno ben conosciuti quindi molto spesso i politici non li conoscono e quindi in un futuro nel presente ma anche in un futuro io vorrei che si fidassero di più anche i tecnici e che i tecnici siano sempre più preparati anche da un lato a far fronte alle situazioni degli orsi d'altro canto anche a mi permetto un termine forte educare i politici alla conservazione dell'orso grazie ringrazio il dottor Mustoni sicuramente e lo ringrazio perché porre l'attenzione sul significato delle parole è importante ed è una premessa per poi porre in essere delle azioni efficaci ed efficienti da un punto di vista giuridico poi i termini sono a maggior ragione importanti distinguere fra un fenomeno di pericolosità e di dannosità beh questo ha un impatto anche su i poteri che legittimamente possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione per far fronte ai problemi che ne emergono e proprio questo era stato uno dei profili che aveva sollevato che aveva evidenziato il Consiglio di Stato nel momento in cui ha dichiarato legittima alcune previsioni contenute nelle linee guida per la gestione degli ossi problematici accendo la parola al professor Lucci che sicuramente ci illuminerà a fronte della molteplicità di spunti emersi nelle relazioni chiedo anche per l'inche c'è ancora lo schermo condiviso se non erro mi sentite bene io cerco di rispettare i tempi in un momento il cronometro velocemente ovviamente ringrazio Stefano Cipitarese e Eugenio Caliceti per l'invito sappiamo l'orso anche per aver contribuito a finanziare questa interessante serie di seminari perché io credo che sia importante ormai a 12 anni dalla prima formulazione la firma del PADOM che appunto finalmente si faccia un po' al punto della situazione per cercare di capire questo strumento appunto se sta funzionando o se potrebbe di fatti funzionare meglio ho due premesse da fare con le quali mi vorrei scusare a differenza appunto dei relatori che mi hanno preceduto io non ho volutamente fare voluto fare le diapositive perché ho sviluppato un po' di allergia ma anche perché non parlerò specificatamente di aspetti biologici comportamentali o ecologici degli orsi confidenti perché è mia convinzione che non si può risolvere un problema così complesso così articolato come bene ce l'hanno illustrato le precedenti due relazioni in un incontro in remoto appunto che dura due tre ore insomma quello che sia mentre invece io penso che questo argomento gestionale che è un problema estremamente complesso e in continuo divenire può essere in maniera funzionale preso ad esempio per baudare proprio la funzionalità il funzionamento di questo padom quindi mi perdonerà Andrea Mustoni o magari gli altri che sono collegati che sono più interessati magari alla versione diciamo alla situazione alpina dell'orso ma insomma parlare del padom vuol dire anche parlare più in generale di come le nostre istituzioni le nostre organizzazioni che sono preposte alla gestione e conservazione della fauna poi di fatti riescono a essere più o meno funzionali utilizzerei anche più la parola più o meno efficienti vista il crescento di problematiche che magari l'incremento della fauna la presenza della fauna in città e d'altra parte un aumento di eterogeneità nell'approccio sociale diverse correnti di pensieri diverse appunto scuole di opinioni che creano appunto gli interventi gestionali se vuoi ancora più difficili dal punto di vista strettamente sociale quindi volevo prendere appunto l'occasione parlare a braccio ma dire due o tre messaggi non di più se no poi diventa complicata la questione per farsi una domanda a tutti quanti più generale partendo proprio dal discorso di riorsi problematici abbiamo sentito dire più volte al direttore San Marone e anche al collega Mustoni la parola tecnici scienziati politici amministratori in tutto questo percorso elaborato e complesso della gestione degli orsi confidenti ma insomma io vorrei invitarvi a fare una riflessione su una domanda dove è la scienza in tutto questo pensare in tutto questo fare in tutto questo pianificare dove sono gli scienziati e se gli scienziati possono debbono vogliono avere un ruolo in tutto e quello che mi viene sempre da dire agli studenti è che se c'è un aspetto positivo in questi ultimi anni di tutta la tragedia della pandemia del covid è che si è capito bene finalmente a che cosa serve la scienza ovvero detto in pochissime parole banalizzando una cosa più complessa se non ci fosse stato un comitato tecnico scientifico composto da scienziati nessun governo si sarebbe mai preso la responsabilità e avrebbe mai avuto il coraggio di stabilire misure come il lockdown o il green pass che sono state lo stesso estremamente criticate e soggette di critica e puntista sociale ma hanno avuto la forza l'autorevolezza della scienza per appunto essere in qualche maniera adottate ed hanno portato a determinati risultati questo ha fatto capire secondo me al pubblico in generale qual è il ruolo degli scienziati che non sono i decisori politici non sono gli amministratori non sono coloro che decidono come e cosa devono fare ma sono un gruppo di persone che per modo di ragionare per tipo di cultura per capacità ed educazione ricevuta approcciano la complessità dei problemi e non la banalizzano come spesso invece avviene necessariamente sul fronte politico e grazie a questa formazione mentale formazione culturale gli scienziati possono meglio e più di altri offrire delle possibili soluzioni in un ambito gestionale particolarmente compreso quindi anche se questa affermazione questa considerazione non può far contenti tutti di fatto è così insomma noi formiamo scienziati nelle università perché crediamo che una volta adulti nel mondo del lavoro queste persone rientranno le soluzioni giuste a problemi complessi per questo gli orsi confidenti sono un elemento importante perché l'orso guancarrieto che è il roccaraso attira l'attenzione di tutti non è un problema che può essere ignorato però attenzione che nel Pautom erano previste 22 io dico erano uso il passato perché secondo me sono state ampiamente dimenticate erano previste 22 azioni su tantissimi altri fronti altrettanto oppure permettetemi dire molto più importanti appunto come la gestione del conflitto della zootecnia attività antropiche come la caccia o l'assestamento della gestione forestale che hanno a che fare non su uno o due individui problematici dannosi confidenti chiamati come avete ma hanno a che fare sull'intera popolazione e sulle generazioni attuali e future pensate semplicemente alla gestione forestale e l'impatto che questo può avere nella produttività di risorse trofiche naturali che questa potrà avere nei prossimi 50 100 200 anni magari sommata al problema del climate change e tutte le problematiche che questo comporta quindi benissimo gli orsi confidenti è un problema con gente ma attenzione a capire qual è la strategia dietro la conservazione di queste due piccole popolazioni di orso preziosissime che abbiamo in Italia più a largo spettro e allora alcuni scienziati con alcuni amministratori politici illuminati nel lontano 2005-2006 sull'onda dell'entusiasmo di un grosso forse unico progetto di ricerca che è stato finanziato tra l'altro con fondi di una ricca industriale americana questo lo sottolineo sempre perché l'unica ricerca seria che è stata ci è stata concessa abbiamo avuto l'onore e la fortuna di portare avanti è stata finanziata con fondi dei nord americani cittadini in realtà sull'onda di quell'entusiasmo con alcuni funzionari del ministero si è pensato di provvedere a questo pato si è seglato ripeto nel si è ben ricordo nel 5 luglio del 2006 all'Aquila quindi sono passati 12 anni di fatti uscito nella sua maniera più codificata più regolare nel 2011 come quaderno dell'ISPRA appunto quaderno della conservazione della natura e lì erano elencate 22 azioni molto specifiche ben pensate da fare in maniera organica e sinergica per appunto aumentare lo stato di conservazione dell'orso Bruno Marsicano che io sappia la stragrande maggioranza di questa azione non sono state portate avanti nei tempi o nei modi con cui erano previste questo non vuol dire che i singoli enti ovvero le singole regioni o i singoli parchi non abbiano fatto nulla voglio semplicemente dire che questa sinergia questo coordinamento su larga scala per facilitare quello che San Marrone giustamente ricordava è il futuro della conservazione di questa specie ovvero una espansione dell'areale su ben più vaste superfici che non siano quelle del Parco Nazionale di Abruzzo in realtà queste azioni non sono state portate avanti e in particolare una alla quale io tenevo particolarmente che era l'azione appunto legata al discorso della gestione stessa del Pato appunto che era prevista alla formazione di un tavolo tecnico scientifico che già dalla nascita ha visto una serie di problematiche appunto perché all'inizio aveva la forma di una sediteria tecnica che però poi non ha funzionato quindi è stata cambiata dall'allora funzionario architetto fiorentino in diversi tavoli tecnici tavoli tecnici che sono nati male secondo me nella mancanza di una struttura di lavoro nella mancanza di un coordinamento nella mancanza di un protocollo di lavoro preciso ma anche nel tipo e nella qualità di persone che sono state chiamate a far parte di questi tavoli che sono diventati tavoli tecnici e non scientifici ma in realtà poi devo dire io li ho seguiti in maniera marginale ma non hanno avuto un gran futuro tant'è che in una riunione che abbiamo fatto Luciano ricordami bene nel 2018 proprio nel parco nazionale Abruzzo i funzionari del ministero hanno sostanzialmente dichiarato che questi tavoli tecnici non c'erano più e si erano di fatti esauriti quindi alla luce di questa consapevolezza io per primo sono un po' disorientato perché a mio avviso la gestione della fauna come la gestione di qualsiasi fenomeno mettiamo appunto anche una pandemia da covid è abbastanza anagonistico pensare di gestirla solamente su base esperenziale di chi fa la gestione oddio è fondamentale l'esperienza di chi fa la gestione sul territorio anzi forse è la componente più importante però sarebbe anche importante avere una sorta di bussola che ci indica qual è il nord appunto per non perdere poi nelle contingenze locali nell'agitazione che appunto solitamente caratterizza le situazioni emergenza dipendenza quindi quello che noi diciamo da anni insomma che la gestione viene se sia basata su evidenze scientifiche per usare il termine inglese si parla tantissimo di science based evidence allora la domanda che io vorrei porre a tutti quanti è nel padom ma anche nel discorso della gestione degli ursi confidenti ma non solo dove è questo elemento cioè quando è chi sono le persone quali sono i momenti le strutture l'attimo di riflessione in cui gli scienziati in qualche maniera si pronunciano e danno il supporto ai gestori per poter scegliere fare diverse alternative gestionali perché poi sarà il gestore o il politico che farà una serie di alternative tecnicamente diciamo plausibili ovvero che hanno la maggior probabilità di portare un risultato sperato della gestione e poi sono di fatti io trovo che sia molto importante riattivare questa discussione all'interno del padom partendo proprio dal discorso degli orsi confidenti dove appunto San Marone nella sua presentazione chiarissima dove concordo con appunto il parco ha fatto e la regione hanno fatto passi enormi io se posso fare un appunto io come università ma a nome anche degli altri colleghi e delle altre università non c'è stato un coinvolgimento continuativo diretto strutturato in modo da poter analizzare in maniera razionale e al meglio delle nostre conoscenze appunto lo stato della situazione e dare un supporto di tipo scientifico questo tra l'altro altra cosa che ci tengo a dire non solo e non perché c'è una situazione di emergenza Juan Carrito è in paese il sindaco si arrabbia c'è il conflitto sociale bisogna fare qualche cosa perché ovviamente in tempi di emergenza e dipendenza poi le possibilità tecniche di intervenire sono limitate e c'è poco da stupirsi se poi c'è una reazione sociale di estremo conflitto perché si genera abbastanza cacciara allora la scienza dà il meglio di sì in momenti di pace per evitare e prevenire possibilmente i tempi i tempi di guerra anche se forse questo è proprio un momento storico sbagliato per poter dire questa cosa ma io continuo a essere convinto che un science based management nel caso dell'orso marsicano dell'orso alpino e anche degli orsi confidenti tra l'altro garantirebbe i processi gestionali o meglio i processi decisionali che stanno alla base della gestione garantirebbe quella necessaria autorevolezza anche per educare il pubblico nei progetti di comunicazione quindi non solo comunicare ma educarli perché è una cosa se certe cose certe affermazioni vengono dette da persone autorevoli un'altra cosa se vengono dette magari dal politico l'amministratore di turno che ovviamente può essere poi tacciato di conflitti di interessi non è un caso che noi siamo stati sommersi da questo tsunami di comunicati forse eccessivi appunto da parte del comitato tecnico scientifico dall'epidemiologo dal virologo di turno perché? perché lo scienziato in questo momento assume una autorevolezza avere una credibilità maggiore quindi ci sarebbero da fare tantissime considerazioni io ho pochi minuti a disposizione però per calarmi un attimo quindi sul discorso degli orsi confidenti un pochettino ecco lamento senza tante redicenze questo fatto che secondo me non è emersa la potenzialità che l'Italia può offrire come competenze scientifiche giustori in questo tipo di discorso e forse lo si nota fin dalla definizione degli obiettivi gestionali quando noi facciamo gestione è impossibile pensare di fare gestione se non nei situazioni emergenza dipendenta dove l'obiettivo gestionale è chiaro è quello di rimuovere il problema che crea scompiglio ma più in generale se noi parliamo di gestione e conservazione della fauna e qui parliamo quindi di conservazione di una popolazione ridottissima in termini romandici ridottissima in termini di potenziale evolutivo perché abbiamo una scarsissima variabilità genetica un pronunciato rischio di depressione da incrocio qui ovviamente sto parlando dell'orso marsicano che appunto è presente nel centro Italia ma in qualche maniera anche di quello che potrebbero essere problemi futuri per l'orso nelle altre quindi qui parliamo di un problema di gestione enorme bisognerebbe capire bene quali sono gli obiettivi in base agli obiettivi che vogliamo raggiungere la scienza dovrebbe dare indicazione di quali sono gli interventi tecnici da fare quindi indicazione di conservazione indicazione gestionale a largo spettro dopodiché sempre la scienza dovrebbe essere in grado di suggerire agli enti che fanno gestione delle modalità di misurare il risultato l'effetto di questi interventi gestionali è quello che si chiama il processo di gestione adattativa che si va avanti anche un po' a tentativi quindi io faccio il mio intervento gestionale pensando sperando di ottenere un risultato non è detto che questo venga fatto però io scienzio ti posso dire quali dati raccogliere del tuo intervento gestionale per poter poi farne un monitoraggio nel vero senso della parola e valutare se il mio intervento gestionale è quello che effettivamente dà i risultati sperati l'ho implementato effettivamente come teoria di a comanda e quindi in qualche maniera o confermare il mio processo gestionale oppure migliorarlo nel tempo questo processo di valutazione e di migliorazione che è insieme appunto nel processo di gestione adattativa anche questo può essere suggerito o indicato dalla scienza cosa che secondo me non è stata fatta o perlomeno non è stata fatta come potrebbe essere fatta quindi il mio auspicio è che nel futuro questo aspetto di fatti aumenti un'altra importante differenza che in questo ciclo gestionale va fatta e rifletterei profondamente anche in in prospettiva di quello che ci avete raccontato non sui enormi conflitti sociali ma io direi anche più che sociali culturali e antropologici un sindaco che si rifiude di togliere le mele da un paese perché se no togliamo da mangiare gli orsi con tutta la problematicità ormai dichiarata scritta vissuta degli orsi confidenti lascia basiti nel senso che è veramente un problema di tipo culturale antropologico serio e quindi qual problema non è l'orso problematico o pericoloso o confidente che sia il problema è un sindaco che proprio rema rema in senso opposto quindi di nuovo la domanda è quando noi stabiliamo gli obiettivi gestionali gli obiettivi di conservazione in ampio aspetto ma chi li decide no perché magari se le decidono due scienziati d'accordo con due funzionari al ministero il processo è abbastanza semplice abbastanza condiviso ma qua più in generale ci dovremmo veramente chiedere ma la società degli Ane vuole veramente tutelare questi orsi se bisogna quindi articolare degli interventi gestionali mirati a perseguire degli obiettivi gestionali la domanda è ma forse questi obiettivi gestionali dovremmo concordarli con la società oppure condividerli con la società prima ancora di fare questi interventi gestionali se ne abbiamo il tempo e anche qui vuol dire non ci sta solamente la scienza ecologica o la scienza dello zoologo o la scienza del biologo ci sta la scienza dello psicologo ambientale ci sta la scienza del sociologo ci sta la scienza dell'antropologo che va utilizzata in questi processi e questo è un altro diciamo suggerimento che io darei a una rinnovata revisione del pattern perché abbiamo visto gli aspetti biologici ecologici sono abbastanza noti sono sufficientemente trattabili mentre invece gli aspetti problematici sono proprio quegli istituzionali culturali antropologici che stanno creando tante difficoltà dalla mancata implementazione del pattern cosa di cui appunto si occupa il dottor Caliceti per cercare di capire quali sono motivi e quali non sono motivi ma ci sono aspetti ancora più grossi appunto che sconfinano anche nella impossibilità poi di implementare interventi gestionali mirati a risolvere il problema degli orsi degli orsi confidenti quindi detto questo tornando al discorso degli orsi confidenti del parco di Abruzzo cosa abbiamo imparato io sono d'accordo con il direttore San Marone un sacco di cose si è messo a dura prova il sistema e quindi questo sicuramente è un bene però Luciano io credo che abbiamo imparato pure che l'assenza di un riferimento scientifico solido continuativo ben impostato ben rodato e autorevole ha creato dei problemi il problema degli orsi confidenti come il problema della caccia come il problema dell'assestamento forestale come il problema della zootecnia se vogliamo che l'orso si espanda su tutto l'alpenino sono problemi di straordinaria complessità non si possono affrontare su un accordo fra ente gestore e politico insomma chiaramente per legge abbiamo l'ISPRA che è riferimento scientifico però insomma io su questo voglio dire abbiamo sentito l'intervento se ti tiro in ballo ma lui è stato abbastanza critico su un protocollo che è stato approvato da ISPRA insomma già dal 2006 io per primo mi metto in ballo perché il protocollo degli orsi confidenti che adesso è attuato appunto in appennino nasce dal progetto ARTOS ma nel progetto ARTOS non venne approvato all'unanimità io come università e il compianto Massimiano Rocco WWF Italia eravamo contrari al piano così come è stato approvato poi è stato approvato ad ortocollo non all'unanimità perché i tempi erano strettissimi perché sapete come funziona nei progetti LIFE che se non gli dai il prodotto non ti danno i soldi quindi alla fine quel protocollo è passato e sfortunatamente lasciatemi usare questo termine poi così come è passato ripeto senza l'approvazione di un'importante associazione ambientalista come il WWF e dell'Università di Roma che avevano le loro buone ragioni per non approvarlo è stato approvato dall'ISPRA ed è diventato il protocollo adesso tutto renuso poi rinnovato col tempo e quello che sia questo per dire una cosa che va bene ISPRA ma insomma dieci persone ragionano sempre meglio di una e quindi su questioni complesse socialmente conflittuali e straordinariamente articolate io non troverai nulla di male che si fondasse a livello del ministero a livello del parco a livello della regione pensatela come volete un comitato tecnico appunto scientifico composto da personaggi di comprovata autorevolezza scientifica non tecnica insomma si può fare una declinazione di questi termini che superparte senza nessun conflitto di interessi senza nessuna simpatia politica o del momento o del sindaco locale danno una serie di indicazioni che appunto sono sperabilmente oggettive e al di sotto i conflitti personali e quindi io questo credo che sia l'auspicio appunto che possiamo fare non solo per i rossi confidenti ma al patom più in generale quindi ho completato il mio tempo ma sono stato nei 20 minuti canonici Eugenio io avrei da dire altre cose ma insomma non avendo poi le vie positive non vado a incrementare la complessità di quello forse l'unica cosa che voglio dire perché mi è piaciuta come sempre la presentazione di Andrea che nella onestà totale onestà intellettuale propone delle domande io penso Andrea che molte delle domande che tu hai fatto andrebbero rivolte agli scienziati in primis e poi magari ai politici e al pubblico più in generale perché perché gli scienziati forse adesso lo dico più chiaramente di prima sono coloro che per formazione professionale sono abituati a fare la distinzione fra le opinioni e i fatti la scienza non è altro che il progresso dalle nostre conoscenze che da opinioni diventano fatti attraverso metodi scientifici di riprove una maniera di ragionare e allora innanzitutto se non partiamo dai fatti qualsiasi tentativo di gestire sistemi complessi diventa caotico come minimo e diventa suscettibile appunto a deformazioni sociali ad attacchi politici eccetera se noi riuscissimo in questo paese sfruttando non solo gli orsi problematici ma proprio l'orso e la fauna in generale come elemento per far ricordare che l'ambiente ha bisogno innanzitutto della scienza e la scienza ha bisogno poi di una politica coraggiosa la politica coraggiosa la si costruisce su una scienza robusta allora se noi manchiamo di scienza robusta su queste faccende il discorso non va da nessuna parte e qui torno a chiedere dov'è la scienza nel padone il padone il padone prevedeva fra le azioni la ricerca scientifica cosa ha fatto il padone a oggi per finanziare coordinare sinergizzare periodizzare la ricerca scientifica sull'orso marsicano e potrei stare venti ore qui a raccontarvi cosa si può fare in termini di ricerca scientifica sugli orsi confidenti ma non lo dico pestizza perché a me nessuno ne ha chiesto e allora voglio dire ci sarà un problema da riflettere nel padone della serie signori che gestite il padone ma che fine ha fatto la ricerca scientifica in generale e che fine ha fatto la scienza come punto di riferimento per quello che dovrebbe essere un science based management e quindi io lascerei tutti con questa con questa domanda grazie dell'attenzione ringrazio il professor Cicci Paolo per le riflessioni due considerazioni che mi sento di poter introdurre prima di aprire il dibattito il tema degli orsi problematici orsi confidenti è così sensibile perché in verità evidenzia la stessa problematicità che sussiste nella presenza dell'orso in che senso? le esperienze trentine e abruzzesi sono sicuramente differenti nel momento in cui in provincia di Trento la presenza dell'orso inizia a diventare problematica beh questo è determinato dal fratto che è stata un'operazione di reintroduzione e che forse non è stata preceduta da un processo partecipato che ha reso pienamente cosciente la popolazione su anche le esternalità negative che potevano conseguire da questa politica in un qualche senso la politica la situazione trentina risente del successo stesso che ha avuto l'esperienza non penso che inizialmente ci si aspettasse di un incremento di popolazione così consistente non associato ad una dispersione di esemplari al di fuori del territorio provinciale una seconda considerazione sul rapporto fra tecnica fra scienza e decisione politica la questione è sempre molto molto delicata e la questione è delicata nel momento in cui siamo di fronte ad un sistema che non garantisce la piena autonomia delle parti se penso alla realizzazione di uno studio condotto anche dal Muse che è stato un documento scientifico frutto di un tavolo tecnico quando partecipato anche esponenti ISPRA documento che è stato poi assunto anche per l'elaborazione delle linee guida poi approvate con deliberazione beh in quel frangente uno degli obiettivi e una delle tesi che si vanno a dimostrare è che l'abbattimento di un numero di orsi pari a 2 4 esemplari all'anno non avrebbe compromesso il mantenimento di un numero di individui sufficiente per garantire la popolazione anche in questo il rapporto fra tecnica e scienza se non vi è autonomia delle parti alla fine la tecnica viene adesso utilizzata dal politico per dare legittimità ad affermazioni che sono poi apoditiche tanto che anche in un rapporto che era stato dato penso dall'ISPRA su questa affermazione ossia il fatto che l'abbattimento di due animali nell'ambito di un anno non avrebbe compromesso e la salvaguardia della specie anche questa affermazione di per sé che sembrava fermata da un punto di vista scientifico era stata messa in qualche modo in discussione mi fermo qui apro il tavolo alla discussione se vi sono interventi o domande ci sono scusa se intervengo io ma ci sono tre mani alzate la prima penso che sia Sam cioè il direttore poi ci sono io poi Andrea Musconi perché se guardi sono le manine avete possibilità di prendere autonomamente la parola prego dottor Samarone intanto grazie a Paolo e grazie a Andrea perché è sempre bello ascoltarli ed è ancora grazie all'Università di Chiedi e a Salviamo l'Orso per il momento di confronto allora le domande sia di Andrea che di Paolo sono tutte e due interessanti all'ultima di Paolo dove sta la scienza nel patum mi vorrebbe da dire più in generale dove sta la scienza in Italia ma questo non per come dire trovare delle giustificazioni alla carenza di scienza nel patum ma per dare una risposta complessiva al fatto che l'approccio complessivo della gestione della cosa pubblica in Italia ha dovuto fare ricorso alla scienza soltanto quando stavano morendo mille persone al giorno e nonostante i mille morti al giorno di patum ci abbiamo avuto un dieci dodici non so a quanto siamo arrivati per cento di popolazione che ha pensato bene di non vaccinarsi ha pensato bene di anteporre le proprie ideologie non si sa basate su cosa che per carità sono tutte rispettabili ma quando poi la vita delle persone la mette in ballo ora noi oggi abbiamo una fascia di popolazione che ha venti volte più possibilità di infettare gli altri stiamo parlando di salvaguardare le persone ok allora la scienza nel patum tu ricordavi Paolo vari passaggi ci sono stati tavoli tecnici tavoli tecnici che in alcuni casi sono come dire bellamente naufragati anche per l'incapacità dei tecnici che in alcuni casi stavano seduti a quei tavoli di dare il contributo richiesto e siccome nel tavolo del patum ci sono stato a vario titolo seduto come dire come guest cioè come come ospite e ora come direttore del parco la storia del patum la posso raccontare bene ma la domanda ancora più a monte che mi viene da fare visto che se ne sta parlando è che il piano d'azione dell'orso tanto quanto del lupo piuttosto che di qualunque altra specie in Italia non ha valore normativo è un piano di indirizzo per cui tanto come dire può diventare norma e quindi può essere recepito e a seconda delle varie sensibilità trovare attuazione concreta da parte dei vari attori tanto può restare carta straccia messa lì un documento fatto in qualche caso per dare degli indirizzi e poco più noi abbiamo una gestione della fauna selvatica che in Italia è frammentata in ventidue ventuno soggetti che sono le realtà regionali ventuno perché abbiamo le regioni a statuto autonomo allora forse la riflessione a me verrebbe da fare ok riportiamo a monte tutto quanto questo dice mo la stai a buttare in cacciara no non la sto a buttare in cacciara perché la stessa autorità di gestione che ha un nome pomposo ma che poi concretamente e chi qualche volta ha letto solo i verbali dell'autorità di gestione del padomo la stessa la stesso accordo tra pubblica e amministrazione che viene firmato è sostanzialmente un mettere e condividere delle cose delle azioni che sono prioritarie e che tutte le amministrazioni che le sottoscrivono comunque le dovrebbero fare e che vengono variamente sollecitate perché l'autorità di gestione ha questo ruolo di coordinamento perché di autorità sostanzialmente non c'ha nulla ma perché non ha non ha non ha mandato si poteva chiamare un altro modo tavolo di coordinamento ok si è voluto pomposamente dire chiamiamola così quanto invece alla e quindi la scienza ce ne sarebbe sicuramente molto più bisogno però la scienza richiede anche delle risorse risorse che sappiamo tutti non ci sono non a caso tu ricordavi che una delle ricerche più importanti è stata finanziata da americani e questo l'esempio fatto tante volte è come se per salvare il Colosseo ci facciamo i soldi dai giapponesi che vengono a farci le fotografie quanto a dove sta la scienza nella conservazione nelle attività ordinarie beh come dire noi forse per carità tutto è opinabile però noi il confronto l'abbiamo aperto a livello internazionale e sono io ma questo è un'operazione che il parco fa da da tanto tempo e lo fa condividendolo con tutti i tavoli istituzionali del Patom ovvero dall'episodio della famosa orsetta morena che venne chiamato un nord americano per dire come gestiamo un cucciolo di orso per riportare all'episodio successivo del cucciolo ricongiunto alla gestione di carrito che è passata per una serie di soggetti ok io sarei assolutamente felice di avere come dire un tavolo il tavolo dei virologi chiamiamoli così esperti di virus che si applica alla gestione dell'orso promuoviamolo all'interno della revisione del Patom però dandogli ovviamente una titolarità in termini operativi e amministrativi che non è quella che oggi possiamo trovare perché i politici è vero che poi adottano le decisioni ma le adottano le decisioni sulla scorta delle informazioni che i tecnici a vario titolo gli danno il politico di come si fa una cosa piuttosto che un'altra non lo sa e siccome a noi ci raccontano delle cose e bellamente come dire da un punto di vista della sensibilità di ciascuno verso le proposte politiche amministrative e quindi di chi ti deve governare di chi deve prendere per me le decisioni siamo giustamente legittimamente la forza della democrazia è questa quello che è vero oggi domani lo possiamo rimettere in discussione ricambiamolo però attenzione perché in realtà se uno poi le carte se le va a guardare tutte quante e le carte se le va a leggere come dire non stiamo all'anno zero non stiamo all'età della pietra abbiamo pubblicato tutta una serie di confronti non è ricerca scientifica arriviamo dove possiamo con le poche risorse che abbiamo ma questo è un problema cronico a livello italiano abbiamo fatto a meno del nucleare e stiamo ricorrendo non sappiamo come produrre energia abbiamo fatto a meno di tutta una serie di cose e non sappiamo dove andare a sbattere per altre questioni cioè siamo come paese come sistema paese molto strani è giusto parlarne per l'orso ma e quindi proporre delle soluzioni ma ben sapendo che quando le vai a mettere sul tavolo di chi poi deve firmare un decreto e dire ok l'autorità di gestione dell'orso ha potere come dire commissariale perché di questo ci sarebbe bisogno sulla tale regione o sul tale ente parco perché il direttore è incapace e non prende la decisione giusta a quel punto penso che difficilmente ci arriveremo e anzi visto quello che è successo in Trentino abbiamo fatto siamo andati incontro ad una ad una involuzione sostanzialmente perché da quello che deve essere un comitato tecnico in realtà pare che ora almeno da lontano così questo si vede le decisioni le vengono prese soltanto a a livello a livello politico grazie cedo la parola al professor Civitarese sì no grazie intanto a tutti tutti e tre i relatori perché penso che siano state veramente relazioni di straordinario interesse che ce l'aspettavamo ma insomma è andato oltre le mie aspettative quindi ringraziamento sentito ci sono molti spunti tra i quali adesso cercherò di navigare per porre insomma è una riflessione volendo anche un ulteriore invito a riflettere con me su quello che ho visto per dire però prima proprio dalle ultime cose che diceva il direttore adesso mi viene un ulteriore di carattere generale perché il punto da cui siamo partiti con questa ricerca quando abbiamo iniziato a pensarci e poi abbiamo trovato il finanziamento abbiamo fatto tutto quello che si fa in questi casi cioè il concorso per individuare poi il ricercatore che lo sta facendo che è un genio è proprio la domanda di fondo è proprio quella che tu hai in questo momento posto comunque implicato cioè se per rendere il patom uno strumento effettivamente dotato di una qualche forza chiamiamola normativa che poi si riflette sulla questione di che cos'è l'autorità di gestione che poi era uno dei punti che adesso devo sottolineare dal punto di vista più diciamo di legittimazione politico-sociale però a questo punto la colleghiamo anche a questo punto qua e sia necessario un intervento legislativo che è la cosa sempre più semplice però più complicata cioè giustamente manca una legge sulla fauna adesso tra l'altro con l'articolo 9 riformato forse c'è un argomento in più per dire che c'è usando un'espressione forse troppo giuridichese una lacuna teleologica nella Costituzione perché adesso si parla espressamente del fatto che si tutela anche la fauna sostanzialmente quindi sembrerebbe comunque essere un ulteriore argomento a favore di questo manca una legge sulla fauna manca sicuramente un riconoscimento legislativo di questi piani di azione la sfida che noi ci poniamo è possibile costruire un meccanismo giuridico a una volta si diceva a costituzione invariata a legislazione invariata che renda il patum e l'autorità di gestione vincolante per chi decide volontariamente di entrarci naturalmente cioè il primo punto è quello che c'è un elemento di volontarietà nell'entrare nel patum non è che non può essere obbligato a prendere la regione bruzzo la mette dentro ma una volta che ci si obbliga si può costruire questo accordo in termini più cogenti la risposta mia anche un po' buttando il cuore oltre l'ostacolo è sì è molto complicato politicamente ma si potrebbe fare questa è la parte diciamo più sfidante di questo progetto poi dopo di che c'è la parte altrettanto importante probabilmente se non di più invece c'è la valutazione dell'analisi di quello che è successo di quello che anche nei limitati spazi operativi si poteva fare è stato fatto non è stato fatto anche proprio questioni più tecniche che poi naturalmente sarà Eugenio a dover decidere e realizzare quindi questo è veramente il punto il nostro punto centrale quindi ti ringrazio anche per aver sollevato questo aspetto io adesso quindi sintetizzando ulteriormente quello che mi riempimento dalle vostre stimolanti considerazioni partivo proprio dal fatto cioè mentre parlava soprattutto il direttore San Marone mi chiedevo ma da un punto di vista proprio dell'approccio al tema visto che a noi ci interessa la conservazione che significa espansione qui parlo dell'Abruzzo in questo caso significa espansione della reale insomma tutto quello che ci avete detto benissimo occorre forse un approccio più laico e cioè occorre considerare diversamente la questione diciamo dell'uno rispetto dell'uno che in questo caso è Quancarrito tutti gli altri che sono stati citati rispetto al complesso della popolazione e quindi come dire accettare come si dice economia un trade off tra appunto il bene collettivo e qualche perdita quindi osare un po' di più e anche accettare scelte impopolari ma se questo è il caso qual è qui venivo al problema dell'autorità dove sta si è detto dove sta la scienza ma dove sta l'autorità c'è una legittimazione sappiamo che le autorità pubbliche devono godere sia di una legittimazione giuridica ma anche di una legittimazione sociale possiamo costruire la legittimazione sociale di un'autorità che oggi sicuramente il parco ha da spendere molta credibilità finora il parco il parco nazionale abruzzo razzi molise scusate può essere trasferita questa autorevolezza questa diciamo legittimazione che è riconosciuta storicamente a questo parco almeno nel nostro territorio a un'autorità costruita un po' artificialmente insomma che sarebbe questa autorità di gestione cioè che diventa in qualche modo magari anche grazie a quello che diceva Paolo Ciucci e cioè l'energia legittimante che può essere costruita dalla scienza a questa autorità è questo possibile e desiderabile questo poi si collega secondo me a un punto veramente interessante della relazione di Mustoni Andrea Mustoni e cioè quello che qui veramente formo una domanda e poi mi fermo perché riguarda la tecnica e il rapporto tra tecniche e decisioni politico-amministrative e un altro dei temi centrali cioè l'altro polo su cui rifletterà questa ricerca perché ne abbiamo parlato anche nel precedente seminario per la verità e cioè la mia domanda è questa in che misura è possibile barra desiderabile perché poi appunto è possibile significa che ci vuole la capacità tecnico-significa di farlo anche giuridica ma anche può essere desiderabile in concreto limitare la discrezionalità della decisione caso per caso attraverso questi protocolli cioè attraverso un protocollo che definisca le azioni secondo il classico modello if-then cioè si verrà benissimo in tutte quelle varie ipotesi che ci sono state presentate da Mustoni cioè in che misura è possibile e però soprattutto desiderabile ingrigliare molto anche finire di legittimazione queste decisioni come nel caso svizzero cioè se succede questo lo abbiamo deciso prima lo abbiamo detto a tutti chiaramente abbiamo fatto un grande processo partecipativo abbiamo fatto tutto quello che prima per prevenire eccetera eccetera poi dopodiché la scienza si è già espressa cioè abbiamo il protocollo l'orso cattivo uso un'altra un'altra immagine tra quelle che forse è indicato a Mustoni va ammazzato e quindi voglio dire è possibile desiderabile adesso io faccio questa non perché ovviamente sia faccio un'imposizione più estrema per farmi capire e quindi a quel punto abbiamo esaurito le scelte discrezionali prima abbiamo un protocollo si segue il protocollo cioè è possibile desiderabile questo oppure è meglio un processo anche dal punto di vista poi di questa funzione di mediazione questa è una altra cosa che volevo dire la funzione di immaginare che ci siano dei nuovi soggetti come dire di mediazione culturale dentro questi processi che spieghino le cose e facciano da tramite tra la gente dei paesi o la gente delle città e le scelte che devono essere fatte oppure in fondo è desiderabile e meglio avere questo processo in decisione caso per caso che comporta però anche tutte queste conseguenze negative cioè la polarizzazione al momento del fatto che facciamo mettiamo adesso come è successo con qualche arrito lo mettiamo qualche giorno in isolamento poi lo liberiamo poi lo prendiamo e questo processo che è molto più faticoso anche dal punto di vista della gestione e che però appunto probabilmente è desiderabile cioè perché di fronte alla scienza non possiamo decidere prima quello che fare in fondo cioè questi protocolli lasciano il tempo che trovano non so se è chiara la domanda però mi sembra veramente un punto emerso tra tutte le cose che avete detto Parigo dottor Mustoni ma sì la mia manina alzata cade a fagiolo rispetto anche alla domanda del professor Civitarese cioè io penso sono abbastanza convinto di questo dopo tanti anni dedicati alla fauna a questo lavoro che la scienza sia assolutamente fondamentale in questo mi ritrovo al mille per mille nelle parole del professor Ciucci cioè senza conoscenza non andiamo da nessuna parte punto tutto il resto è follia però sono convinto anche che nel caso della conservazione della fauna che è una materia chiaramente sono di parte ma che mi piace tantissimo che mi intriga ogni anno di più ma mano a mano invecchio ci sia bisogno prima di arrivare alle scelte dei politici di un'altra figura che è il wildlife manager che è colui il quale attinge dalla scienza e quindi si basa sullo zoccolo duro delle cose interpretate e accertate dalla scienza e cerca delle soluzioni che a quel punto sono nel caso della fauna multidisciplinari perché sappiamo che occuparsi di conservazione vuol dire occuparsi non solo di una singola scienza ma vuol dire occuparsi sia della zoologia che della genetica che della di tutte le scienze umane quindi l'antropologia la sociologia e quant'altro perché gli animali sono in particolare grandi carnivori di grande interesse pubblico questa è una cosa che complica un pochettino come avete citato anche voi prima i vaccini anche il tema dei vaccini è di grande interesse pubblico mentre la gente meno si occupa di altre questioni di cui si occupa la scienza come anche semplicemente i piccoli animali o altre ancora certo gli orsi colpiscono l'immaginario collettivo e quindi hanno bisogno di una figura intermedia che riesca a gestire queste situazioni e a fare da tramite tra la scienza pura che deve andare avanti a scoprire le cose a suggerire le soluzioni e i politici e sono convinto che sono passato da questo punto di vista sono permettetemi lo dico ridendo un po' maturato un tempo davo molta colpa ai politici adesso ne do di meno ne do un po' di più invece alla mia categoria a me perché penso che i wildlife manager debbano avere più coraggio anche nel sostenere le proprie tesi cioè non voglio dire che i politici debbano essere in mano ai manager della conservazione ma vorrei amerei un maggiore dibattito una maggiore vivacità nell'aumento in cui un politico fa delle esternazioni avvalendosi di una scienza che non esiste avvalendosi quindi magari di un pregresso sul tipo gli orsi uccidono i bambini cosa che è accaduta anche in Trentino è stato detto anche questo da parte di un nostro politico vorrei che ci fosse un pochettino più di vivacità nel dire no guardate non è così bisogna andare in un'altra direzione perché altrimenti la risorsa pubblica il bene pubblico rappresentato dalla popolazione degli orsi viene rovinato quindi vedo vedo un processo decisionale a tre livelli senza ombri dubbi la scienza è necessaria i politici sono necessari ci mancherebbe altro e le loro decisioni sono fondamentali ma si dovrebbero avvalere su una classe di tecnici a questo punto perché i wildlife manager possono essere intesi come tecnici facendo quindi una differenza che poi è una sfumatura tra gli scienziati e i tecnici di maggior coraggio sono convinto di questo ci ho detto l'altro punto invece della mia manina alzata molto brevemente era legato a un'altra delle considerazioni che è uscita cioè su cosa si gioca al futuro della presenza di queste popolazioni animali di cui stiamo parlando in Italia ma anche altrove io penso che si giochi di quella banalità più banale del mondo sull'accettazione sociale e quindi che molto si giochi si giocherà sulla presenza degli orsi chiamiamoli problematici in senso lato perché gli orsi problematici sono capaci in modo evidente e rapido di cambiare quella che è l'accettazione sociale e quindi che molto si giocherà sui protocolli che abbiamo visto oggi sulla loro applicazione sul nostro coraggio anche di rimettere in discussione dei documenti che in certi momenti appaiono come le tavole della legge come il Paco Bace o altri documenti o il Patomo o altro ancora dobbiamo continuamente rimetterli in discussione perché diventiamo più bravi perché la scienza ci suggerisce soluzioni differenti perché stiamo diventando almeno apparentemente più preparati e che molto si giocherà non solo sull'applicazione di questi documenti ma sulla possibilità di applicare come dicevo prima le azioni previste da questi documenti e quindi sulla comunicazione la comunicazione è e sarà focale ancora di più nei prossimi anni per riuscire a far capire alle persone l'importanza la delicatezza della presenza di queste specie ma per far capire anche che cosa dobbiamo fare per riuscire a conservarle sul territorio ed è molto difficile perché dobbiamo uscire dal bipolarismo che è stato più volte citato anche come come tifo da stadio da questo punto di vista sono molto preoccupato il progetto l'Aifursus in Trentino quantomeno il progetto l'Aifursus è partito io penso con basi discutibili ma comunque mi permetto di dire solide forse quello che è andato male è stato che non siamo riusciti ad accompagnare lo sviluppo della popolazione con tutti i problemi che ne sono derivati successivamente tutti i problemi peraltro previsti dallo studio di fattibilità realizzato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica non siamo riusciti ad accompagnarli perché dal 2002 ancora prima che dalla fine del progetto l'Aifursus si è entrati in un regime di ordinarietà di gestione mentre la presenza degli orsi in Trentino sulle Alpi è ancora una questione assolutamente straordinaria vi cito solo a proposito di comunicazione un dato di fatto le delibere della giunta provinciale della provincia autonoma di Trento del 2002 imponevano la realizzazione di un piano per la comunicazione già evidentemente nella consapevolezza che la comunicazione era focale per la conservazione dell'orso in Trentino il piano comunicazione è stato realizzato solo nel 2016 una generazione di orsi dopo e nel 2022 quindi ad oggi aprile 2022 non è ancora stato applicato e a questo punto sono passati 20 anni quindi delle domande sono più che lecite dove pensiamo andare di andare se la comunicazione è focale se decidiamo di dotarci di un piano e dopo 20 anni non ce l'abbiamo ancora ha chiesto la parola il professor Ciucci prego sì cercherò di essere rapido volevo giusto fornire due spunti anche di riflessione in risposta ai quesiti sollevati da Stefano Civitarese da professor Stefano Civitarese scusate tutta questa formalità mi sta un po' stretta appunto ci conosciamo personalmente quindi volevo un commento sul fatto dei protocolli sia appunto quello di Paco Bace che quello degli interventi sugli orsi confidenti del centro appennino secondo me Stefano sono dei documenti illegittimi e molto molto importanti poi possono essere discussi migliorati col tempo ma sono fondamentali ed è anche importante che io trovo che siano abbastanza coerenti fra di loro necessariamente vanno fatti distingo e già Andrea e Luciano l'hanno detto prima l'orso in Abruzzo per dire è diverso come consuetudine coevoluzione storia di conservazione rispetto all'orso delle Alpi così come gli esseri umani nel centro appennino sono diversi nel loro rapporto con l'orso rispetto al Trentino quindi è chiaro che poi i protocolli necessariamente rispecchiano la condizione ecologica e antropologico locale ed è giusto che sia così però non possiamo poi svisare tanto sulle variazioni locali spento il microfono Paolo Paolo ti si spende il microfono da quanto tempo? 30 secondi 10 secondi ok scusate no dicevo appunto che noi comunque siamo obbligati a tener fede a dei regolamenti internazionali comunque europei abbiamo la convenzione di Berna abbiamo la direttiva in qualche maniera quindi il nostro ministero le nostre regioni sono così costretti diciamo ad adeguarsi a delle tendenze che sono a livello europeo io trovo che sia anche una cosa positiva l'altro aspetto che sollevavi Stefano giustissimo cioè dovremmo avere dice tu il coraggio politico di pensare che un intervento su uno due tre individui in realtà si limita a quegli individui dovremmo pensare a tutta la popolazione e questo è giustissimo da un punto di vista demografico di dinamica di popolazione se vogliamo anche dal punto di vista genetico il direttore San Marone in una slide lo aveva anche accennato parlando di Juan Carrito è un maschio quindi anche se lì abbiamo delle varianti alleliche che in qualche maniera rischiano di impedersi non essere trasmesse delle generazioni successive che è forse il problema principale dell'orso marsicano appunto questa perdita di variabili genetiche che vuol dire restringimento del potenziale evolutivo eccetera eccetera però insomma lui è uno di quattro cuccioli è un maschio e quindi diciamo forse dal punto di vista genetico demografico sarebbe quello meno problematico però parlando proprio appunto di impatto sociale e di risposta sociale agli interventi di conservazione non facciamo l'errore che è stato fatto col piano d'azione del lupo che infatti è stato discusso per 5-6 anni quello che è poi è finito nel nulla perché quando si parla di grossi carnivori questo lo sottolineava Andrea una parte è l'animale biologico che quindi demografi genetisti collocano all'interno di una popolazione ma queste sono specie simboliche e noi ci abbiamo inzuppato il pane nel fatto che sono specie simboliche perché su queste specie abbiamo fatto le leggi di protezione se volete abbiamo anche tirato fuori ossigeno e supporto per i parchi nazionali quindi il fatto che siano specie simboliche ha de pro e de contro il contro in questo contesto è che quando tu fai un intervento su un orso su un lupo o dici no per gestire il lupo in Italia bisogna abbattere si può abbattere fino al 5% va in una sfera totalmente emotiva simbolica e non scientifica che però ha un peso enorme ha un peso enorme quindi io capisco benissimo l'eredicenza dell'assessore regionale o del direttore del parco nel dire pigliamo Juan Carrito lo mettiamo anche attività oppure gli spariamo specialmente nel contesto appunto di ampia elevata tolleranza che c'è nell'orsone quindi bisogna declinare questi interventi di gestione non solo da un punto di vista genetico e demografico ed è giusto in questo caso avere come riferente la popolazione ma non dimentichiamoci ma è che sono i singoli individui sono di una potere totemico e simbolico enorme ed è lì che si gioca poi il rapporto con la gente col pubblico ed è lì che bisogna lavorare a livello di educazione prima che comunicazione altra cosa ci tengo a sottolineare che in questi anni mentre noi siamo fermi e non succede nulla in questo paese altrove anche il wildlife management e la filosofia di approccio alla conservazione cambia in risposta ai mutamenti umorali della società per cui appunto c'è una maggiore attenzione verso strumenti di intervento non letali e questo vale specialmente nel caso dei grossi carnivori ma non esclusivamente legato a queste specie perché appunto si mette sempre più in discussione quanto sia lecito il fatto di ricorrere all'abbattimento alla cessazione della vita di determinati individui che comunque sono senzienti e quindi questo colpisce tutta una serie di sensibilità visto che la fauna è un bene pubblico e che gestisce la fauna lo fa per l'interesse pubblico insomma ci sta all'interno del mondo scientifico della conservazione un dibattito crescente che trovo giusto che sia sano giusto in senso darwiniano che ci sia questo dibattito perché cambiano le esigenze e il modo di vedere le cose da parte della società in generale quindi per esempio ci sono persone che appunto hanno inventato questo termine della compassionate conservation che è un approccio a wild life management che insomma fa proprie una serie di preoccupazioni che sono tipicamente appunto del mondo protezionista del mondo ambientalista che non necessariamente devono essere sempre in conflitto in contrasto e probabilmente appunto una via di mezzo la si può trovare per esempio adesso per fare un esempio pratico se devo fare domanda per catturare gli orsi o i lupi in un parco nazionale oggi mi chiedono di adeguarmi alla regola delle tre R dove io come tecnico e scienziato diversamente da quello che dovevo fare magari dieci anni fa devo poter dimostrare che non ho altra maniera per fare la ricerca che non sia la cattura degli animali selvatici e che ho fatto il massimo sforzo per ridurre gli animali che devo catturare e per aver sviluppato le tecniche che sono maggiormente innocue nei confronti gli animali cioè la preoccupazione del benessere animale entra ed è entrata a pieno titolo in tutta questa questione quindi attenzione anche a questo aspetto l'ultima cosa che volevo dire in risposta già che ho la parola al commento di Andrea sulla comunicazione che manca è verissimo e Andrea questo mette ancora un po' più di depressione perché fatto il discorso del valore simbolico degli animali e che quindi la gente partecipa alla gestione dell'orso confidante o problematico da un diverso punto di vista che è appunto un punto di vista individuale magari più più calibrato sul simbolo sulla significità di un certo tipo di intervento e questo lo testimoniano appunto le reazioni mediatiche sui social di ogni volta che c'è l'abbattimento o comunque la reattivazione di un animale in realtà io non credo che neanche la comunicazione basta possa bastare quanta comunicazione c'è stata sul discorso del covid eppure quanta gente continua a essere convinta che il vaccino non serve a nulla anzi che si tratta di un complotto qui più di comunicazione e appunto su questo faccio anche un po' riferimento all'esperienza che abbiamo vissuto noi quando eravamo presenti nel parco Robruzzo si tratta di processi di condivisione cioè non avere paura dell'opinione dell'animalista ma portare l'animalista o il cacciatore o l'allevatore nel tavolo decisionale perché solamente attraverso una condivisione degli obiettivi comuni si può sperare di arrivare a un intervento gestionale che sia condiviso da tutti e quindi sostenuto e supportato socialmente tentare una scorciatoia dire vabbè tanto quelli contano poco ce la vediamo dopo crea un impasse finale che tra l'altro si traduce anche in una perdita di tempo e di denaro quindi io sono sempre più disposto a pensare che è meglio affrontare rimboccarci le maniche affrontare le diversità di opinioni all'inizio sperando di trovare la possibilità di un dialogo comune piuttosto che rimandare questo momento alla fine quindi questo vuol dire switchare l'attenzione non sulla comunicazione ma sulla compartecipazione delle scelte gestionali che appunto se già la comunicazione non avviene che era l'evento più facile immaginiamo la compartecipazione è ancora molto più complicata però insomma ci sono delle esperienze positive noi recentemente ne abbiamo fatta una con l'OIEA nella provincia di Corseto dove ci siamo seduti appunto al tavolo con i cacciatori con gli allevatori con gli animalisti in una zona dove c'è un'elevata problematicità di coesistenza del lupo con l'attività zootecnica e non solo e insomma con tre anni di lavoro un sacco di risorse un sacco di energia un sacco di tempo abbiamo raggiunto dei risultati che sono interessanti ora quanto questo possa essere fatto su larga scala e arrivare poi ad incidere sulle politiche regionali e ministeriali è tutto da scoprire però insomma è un altro elemento della discussione che dovrebbe essere contemplato ovvero pensare un po' di più alla compartecipazione dei processi gestionali piuttosto che alla semplice comunicazione top down ti informo di quello che avviene perché l'informazione da sola secondo me ormai rischia di non bastare più è chiesto di parlare il dottor Samarone prego allora mi provo a dare qualche risposta dopo tante domande ma ovviamente le mie perché lascia nel tempo che trovano alla domanda di Stefano sarebbe meglio un'autorità anziché i singoli io dico assolutamente sì nel senso che lì dove ci fosse qualcuno che modello commissario figliuolo ti impone tra virgolette una serie di questioni e ha potere sostitutivo sul territorio io ovviamente parlo per la zona nostra sull'areale dell'orso Bruno Marsicano io sarei la persona più felice del mondo non solo da cittadino ma da direttore di parco perché risolverebbe un sacco di problemi a me un sacco di problemi probabilmente al collega della Maiella un sacco di problemi al dirigente della regione Abruzzo eccetera eccetera così come la possibilità di basarsi e di avere come dire un team di scienziati e di ricercatori che come dire continuamente e a prevenire tutta una serie e quindi a dare supporto tecnico scientifico per le decisioni gestionali perché di questo stiamo parlando però siamo come dire siamo seri cioè in un paese in cui veramente ci sono volute le migliaia di morti per dichiarare lo stato che è finito l'altro quanto è stato il 31 dicembre lo stato di emergenza e nello stato di emergenza abbiamo visto tutti quanti la come dire il variopinto muoversi di milioni di cittadini allora io dico che va bene però delle leggi e delle norme ci sono già qui siamo arrivati al paradosso che disconosciamo le nostre stesse norme il comune di Roccaraso nel 2018 a marzo 2018 adotta una delibera di consiglio comunale votata con nove voti favorevoli su dieci e il decimo era astenuto la delibera di consiglio comunale dice cambiamo partiamo con la raccolta differenziata i cassonetti bidoni quelli più o meno grandi cioè delle strutture tipo residenze perché è chiaro che se c'è un residenze di cinquanta condomini di cinquanta appartamenti non puoi tenere cinquanta bidoncini devono stare chiusi dentro ok è il 2018 siamo arrivati al 2022 voi ci avete i residenze piccoli che hanno cinque bidoni per la differenziata i residenze medi che ce n'hanno dieci e c'è la bella batteria due gialli due verdi due rossi due blu e due marroni ok per la varia tipologia di rifiuti e quando i residenze sono enormi ce n'hai cinque per tre quindici è una norma che il comune di Roccaraso si è dato votata a maggioranza e che il comune il sindaco di Roccaraso in primis avrebbe dovuto pretendere il rispetto vuoi far finta di nulla in condizioni normali ma in condizioni straordinarie come è stata i quattro mesi di presenza di Carrito accidenti fatti una domanda e datti una risposta non rilevi tutte mille e cinquecento ma se ne riduci la metà un terzo un quarto un decimo allora perché faccio questo esempio attenzione perché rischiamo ed è un errore che non dobbiamo fare di andare a cercare sempre un'altra soluzione quando la soluzione ce l'hai davanti a partire dal rispetto delle regole che ci sono se io ad un allevatore gli do la recinzione elettrificata e quello ci deve fare la manutenzione e poi non ci taglia l'erba e la recinzione elettrificata costa settecento euro poi che gliela dà il parco gliela dà la regione gliela dà salviamo l'orso sempre settecento euro di soldi sono e quello non ci taglia l'erba sotto entra l'orso e diciamo ammazzato le pecore mi devi indennizzare tu quello lo devi prendere e gli devi fare una sanzione ok perché perché hai prodotto un doppio danno hai fatto morire gli animali le api quello che ti pare e hai rotto le scatole tra virgolette a qualcuno che doveva venire a fare questa roba allora attenzione a cercare modelli che ci abbiamo davanti agli occhi perché il primo passo è fondamentale quello di pretendere il rispetto delle regole e questo pretendere il rispetto delle regole non può essere una battaglia che fanno le associazioni o fa il singolo ente sparpagliato perché comincia questo quello quell'altro e l'altro il parco d'Abruzzo fa cento anni è ancora senza piano di gestione perché per una serie di problemi tra le regioni tra gli enti eccetera eccetera io faccio lavoro molto meglio con le misure di conservazione quindi le norme che derivano dalla direttiva habitat quindi da direttive comunitarie perché ho l'obbligo della valutazione di incidenza che farlo capire a qualcuno diventa diventa folle e questo ragionando dentro caso cioè in un territorio che è straprotetto stracontrollato straconosciuto stravigilato ma quando l'orso arriva nella valle roveto nella frazione san giovanni dove non ci va nessuno ma nemmeno a chiedergli a quella po' raggente scusa la lampadina della dell'illuminazione pubblica funziona o non funziona sto estremizzando ovviamente ma di che cosa stiamo parlando allora io la cosa che chiedo è benvenga l'autorità Stefano cioè io sono la persona più felice del mondo e non a caso l'avevamo appunto chiamata a suo tempo autorità però attenzione a chiedere cose che stanno troppo distanti per poi ritrovarti senza nulla e qui rispondo anche a Paolo quando dice il protocollo in gestione degli orsi confidenti è stato approvato come vuol dire una sorta di documento a maggioranza senza l'assenso di WWF e dell'università è vero ma se noi non l'avessimo approvato non avremmo avuto nemmeno quello straccio di documento che è sbagliato è fatto male tutto quello che volete doveva essere fatto meglio doveva essere scritto e attuato meglio ma quando poi tu cominci a fare il censimento dei pollai e si alzano i sindaci a dire ah ma voi se censite i pollai e questo era il 2011 se censite i pollai poi noi dobbiamo fare l'ordinanza d'abbattimento ma dove vogliamo andare allora qual è la come dire la riflessione e la la considerazione va bene tutto ragazzi ma dobbiamo fare i conti con la stramaledetta quotidianità che ti mette di fronte a delle scelte che sono bianco o nero il la comunicazione o la condivisione sono processi fatti io insomma voglio dire so frequento il parco per i fatti miei da una vita sono due anni e mezzo che ci faccio il direttore ma questa è veramente la più grande comunità a misura d'orso tu fai il piano per la gestione dei pascoli processo partecipato con tutte le categorie scritto dagli allevatori e dai dai possessori dei terreni e dai sindaci lo vai a portare no non ci piace più e allora ragazzi ma di che cosa stiamo parlando come fai a ridurre l'incidenza negativa di alcune criticità in termini gestionali chi ci vuole come dire qualcuno che dice si fa così e sappiamo bene che in Italia il si fa così cioè il commissario figliuolo che arriva e ti tra virgolette organizza la la vaccinazione di massa perché quello che c'era prima era incapace e allora o ci dotiamo di tanti commissari figliuolo ma esattamente con quel potere sostitutivo perché e chiudo anche quando è stato reintrodotto il e questo me lo ricordo benissimo e Andrea lo sa quando è stato fatto il live ursus fecero il come dire il sondaggio andarono quasi casa per casa in Trentino a dire volete il ritorno dell'orso ora la semplifico Andrea è chiaro che è più complessa la cosa però ci fu un plebiscito a dire sì sì rimettiamo gli orsi rimettiamo gli orsi e anche lì allora in Trentino è vero ci sta qualcuno che la pensa male hanno un governatore della regione che la pensa a modo suo non voglio dare giudizi però la popolazione sta crescendo e non mi sembra che da tutte le parti la gente si sta così stralamentando della presenza degli orsi allora noi se vogliamo vedere sempre il bicchiere vuoto asciutto secco rotto che non esiste lo possiamo fare però attenzione perché il messaggio che passa è un messaggio come dire di catastrofismo questo non significa che noi ci dobbiamo consolare col poco che abbiamo ma dobbiamo partire dai dati oggettivi elementi che ti hanno fatto fare dei passi avanti a giugno dell'anno scorso a me mi veniva detto con Carrito che scorrazzava Carrito è un problema del parco d'Abruzzo Carrito stava a Collarmele a 50 km dal parco dove io non posso mandare nemmeno i guardi a parco ok io mi sono preso la responsabilità di dire ok andiamo d'accordo con la regione facciamo eccetera eccetera d'accordo a dicembre la regione Abruzzo ha firmato la richiesta di traslocazione ora se questo non è uno stravolgimento come dire epocale ditemi voi che cos'è quindi attenzione a condannare perché la quotidianità ti mette di fronte a delle a delle bianco nero è così io con lì poi io quando faccio prendo una decisione vorrei tanti Paolo Ciucci tanti professori che mi danno una mano tanti guarda il quadro è questo possiamo scegliere con le sfumature di grigio di rosso di giallo ma non ce l'ho e non ce l'ho non perché non sono capace di organizzare un gruppo di lavoro io ente parco ma tutti gli enti parco ma perché non ci stanno le risorse il ministero per darci 80.000 euro per assumere i tuoi tecnici per fare il monitoraggio e tenere in piedi la rete di monitoraggio a supporto di quello che noi facciamo ha fatto i salti mortali allora ben venga ripeto è eccezionale questo lavoro però focalizziamo bene le richieste Stefano perché rischiamo se no di andare a guardare veramente andiamo su Marte perché e mo veramente vi chiudo con una provocazione qua la gente si sta lamentando perché paga troppo alta la bolletta della luce quando dall'altra parte ci sta qualcuno che ci sta a mettere la pelle per tenertela ancora così bassa ci siamo scordati questo passaggio allora con la pancia piena il culo caldo e tutte le possibilità possibili soluzioni siamo tutti bravi a pontificare quando stai al fronte ed è veramente come dire assolutamente figurato ok assolutamente figurato le cose cambiano leggermente quindi questi processi partecipati ma che dobbiamo dire che ci è voluta salviamo l'orso per risolvere una serie di problemi che stavano lì da 50 anni oppure smuovere alcune coscienze il lavoro che aveva fatto il VQF prima che da altre parti fa legambiente eccetera 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 allora facciamo massa critica su queste cose chiediamo una cosa alla volta smontiamoli problemi grossi pigliamone una alla volta facciamo un piccolo passo avanti ma evitiamo di costruire sistemi troppo completi perché dando la risposta dall'altra parte che se al politico di turno che abbiamo votato noi non gli piace noi continueremo a pontificare grazie a chiesto di intervenire Stefano e a seguire ancora Andrea Mustoni prego stiamo facendo un po' tardi rispetto ai nostri diciamo in genere il limite di questi webinar è sulle due ore e qualcosa quindi sono rapidissimo io in realtà avevo lasciato la mano non mi ricordo neanche perché adesso mi dico una cosa no era per dire semplicemente mentre parlava Paolo che sono convinto sono perfetto ma mi lo sai sono convinto perfettamente d'accordo sull'impostazione che lui ricordava rispetto al valore simbolico di questa specie poi in particolare anche di altre ma questa più di tutte evidentemente e quindi l'attenzione io ho formulato forse troppo rapidamente la questione era questa era un po' un po' più forse cervellotica ma posso dire cioè nella misura in cui noi e forse la premessa era ma l'espansione dell'areale è in qualche modo anche limitata oltre che dai tanti fattori che vengono spiegati dalle ricerche dalla proprio dal comportamento di alcuni di questi orsi che possono trovarsi in territori nei quali evidentemente per ragioni storiche le risorse si trovano in quel modo là più che non dove ci si è più abituati come nel parco e quindi a quel punto favorire questa espansione significa mettere in conto che situazioni di orsi problematici confidenti eccetera possono anche aumentare ma questo è un trade off che dobbiamo e quindi a quel punto anche accettare che poi se ci siano più orsi problematici è difficile che possano fare tutto quello che si fa con uno solo era questo il contesto che non ho espresso bene evidentemente per cui dice ora più laicismo però mi pare che sia inevitabile che dobbiamo anche rischiare quegli orsi là in un territorio dove c'erano uno sforzo addirittura ma triplo per spiegare alla gente che non è abituata sulla maiella settentrionale sul Gran Sasso per non parlare dei Sibillini che non sono assolutamente organizzati perché naturalmente lì non ci sono stati un'esperienza che c'è da cent'anni appunto nel Parco d'Abruzzo quindi era questo il contesto per cui la domanda era formulata però è chiaro che nelle situazioni in cui siamo è evidente che sono completamente d'accordo con l'approccio che si è avuto di attenzione per le ragioni che avete detto nei confronti di questi orsi che abbiamo adesso che in fondo alla fin fine tutto sommato sono anche pochi come ci ha detto prima il direttore adesso ne è uno non mi pare che sia un dramma poi usare queste parole in questi periodi effettivamente poi lo facciamo perché insomma è tutto nel contesto però no volevo anche tranquillizzare il direttore sul fatto che insomma a parte che purtroppo esiste comunque un qualche iato che poi lo conosco bene perché ognuno di noi ha fatto anche pratica in varie esperienze tra il fronte per usare questa metafora che non va bene in questo periodo e invece quel distacco che ci vuole quando si fa ricerca scientifica e noi però abbiamo individuato questo tema come un tema che sicuramente merita attenzione ben sapendo che esiste questo iato che non è che vogliamo rispondere ai problemi quotidiani se non abbiamo nessuna saremo veramente completamente tra l'altro privi di senso ne volessimo pensare per risolvere tutti i problemi quotidiani con questa ricerca però pensiamo che goccia a goccia un piccolo contributo anche guardando a volte così astraendo dal contesto immediato di decisioni è importante perché la scienza così procede scienza in questo caso intendo anche le scienze sociali che alla fine condividono un metodo almeno di approccio mentale con tutte le altre scienze e però aggiungo anche che noi non abbiamo nessuna idea precostituita è chiaro che si tende quando si studia un problema si tende a partire dalle criticità però io personalmente ma a questo punto lo dico personalmente sono assolutamente convinto che sia stato meglio farlo che ci siano state cose positive nel pattern pur non avendo un'esperienza diretta come quella che avete voi cioè per quello che posso vedere quindi non è assolutamente un atteggiamento ma neanche ma proprio minimamente critico però c'è un problema che è interessante istituzionalmente e anche giuridicamente che è quello di capire fino a che punto si possono costruire strutture amministrative su interessi che sembrano lontani da quelli quotidiani delle persone che risolvono il problema della frammentazione perché questo problema lo dite tutti che c'è come si fa ad affrontare questo problema in termini possibili poi dopo di che è chiaro probabilmente non se ne farà niente e quello che tu hai evocato è un tema tra l'altro il diritto pubblico è da qualche anno molto all'attenzione e che però preoccupa pure e cioè la cosiddetta amministrazione commissariale spereremmo che l'amministrazione commissariale sia sempre un estrema razio perché funzionano altri meccanismi però anche questo è oggetto di studio molto molto brevemente volevo accennarvi questo dirvi questo sono convinto che quello che ha detto Paolo in precedenza sia assolutamente focale per comunicazione io intendo dire proprio una comunicazione andata e ritorno non è solamente una divulgazione non è raccontare il verbo e aspettare che la gente solo ascolti ma evidentemente l'apertura di un dialogo nel piano comunicazione che fermo nel cassetto in Trentino di dialogo si parla quindi di coinvolgimento si parla anche con focus group con portatori di interesse e quant'altro e penso che sia focale e penso che sia focale un nuovo approccio che abbiamo avuto forse più sulla carta almeno qui al nord che non nel concreto che sia multidisciplinare che coinvolga oltre agli zoologi anche gli antropologi sociologi e persone che si occupano di comunicazione in senso lato quindi coinvolgere le persone facendo capire anche alle persone quindi coinvolgere in un dialogo facendo capire anche che alcune cose però non sono attuabili non è che il coinvolgimento nella gestione porta necessariamente a fare le cose che il popolo si aspetta molto spesso nel caso dell'orso così non è concludo con qualcosa a parte mia che è anche una provocazione perché io sono sempre stato fin dagli inizi del progetto di rientroduzione per la rimozione degli orsi intesa come captivazione piuttosto che come abbattimento non entrano in questa discussione degli orsi problematici lo sono sempre stato però conscio del fatto che ad oggi la comunicazione così come l'ho declinata sia assolutamente focale penso che gli orsi problematici sul territorio anche sul territorio trentino siano una straordinaria opportunità ed occasione per dialogare con la gente possano essere un tramite è chiaro che è anche un pochettino scherzare con il fuoco quindi la mia è anche una provocazione però è anche vero che raccontare alle persone attraverso la scienza quello che in realtà fanno gli orsi sul proprio territorio e da qui l'importanza della scienza nel tema della comunicazione e raccontare quello che fanno gli orsi più birichini più problematici sul proprio territorio sia un enorme tramite tra i gestori di scienziati e chi quotidianamente è chiamato a vivere con questo animale perfetto ringrazio tutti i partecipanti le persone che hanno che sono intervenute sicuramente è stato ancora più interessante di quello che si poteva presumere e che mi aspettavo insomma l'incontro le sollecitazioni sono state tante discutere di questioni così problematiche non fa che portarci un po' più avanti anche nella gestione del tema del tema di ricerca che è transdisciplinare veramente ringrazio tutti i partecipanti non so se Stefano voleva salutare il prossimo incontro avverrà il 27 maggio e tratteremo della valutazione dei metodi di valutazione delle aree protette sull'efficacia delle aree protette nell'implementazione delle politiche di conservazione anche di gradi mammiferi con un focus su orso marsicano mi sembra che sia misto tra l'altro non è solo online dovrebbe essere misto sì va bene no grazie a tutti davvero penso che è stata una mattinata molto proficua grazie a voi arrivederci ciao grazie ancora complimenti ciao ciao Andrea ciao ciao a tutti ciao 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 buon weekend ciao a voi ciao arrivederci ciao